Benvenuto a Compila Quindi Va Buonasera, c'è già gente in chat, abbiamo già iniziato a dire delle amenità Stasera c'è un po' una musica stile chiptune, genere chiptune, genere giochi anni 80 che ci sta Un po' di effetto nostalgia, perché sono stanchissimo e quindi potrò dire degli strafalcioni Ma non garantisco la qualità della live in tutti i sensi Quindi, allora, intanto vediamo se è tutto funzionante, quello che deve funzionare Cioè, niente, quindi Sono anche senza voce, quindi sono riduce dalla palestra con un paio di esercizi che mi hanno sfiancato Quindi saluto, c'è già Cristian, poi vedo Valerio Un po' di gente collegata Coraggio che tra un po' è Natale, dopo ci potremo abbuffare con, vedo anche Flavio Io quando vi saluto probabilmente sarete già andati a letto perché c'è un ritardo mostruoso Però, vabbè, si fa un po' come si può Quindi questi sono i mezzi che la linea ci offre, quindi potrebbe anche essere peggio Quindi ci accontentiamo, via C'è anche Maurizio, quindi Che mi ha scritto via WhatsApp, mentre proprio quando stavo uscendo dalla palestra si inizia in grado di connettere E quindi Scusate per le scariche di tosse Spero che vada tutto bene Con il lavoro, con la life Io non sono purtroppo un grande intrattenitore Sto cercando di imparare dai migliori Seguendo qua su Twitch In realtà persone che trattano altri argomenti Quindi guardo la gente giocare Tipo a Fasmofobia, vanno a caccia di fantasmi Allora, teniamo giù un pochino Un po' la musica che non vorrei fosse troppo alta Alessandro Lascia stare il lavoro Scusate, in effetti mi sono reso conto Quando l'ho detto Che è un po' come quando si era piccoli I giovincelli che i parenti arrivavano Soprattutto a Natale Dicevano allora come va la scuola E quindi E tu si faceva sempre la faccia scocciata Come dire Cavolo, ma non hai un'altra domanda da fare Proprio questa domanda mi devi fare E puntualmente l'altra domanda era E con la morosina l'hai messa su? Lì c'era da farsi un po' di nemice Quindi bisognava essere un po' più schietti Sgancia i 20 euro di regalo E basta Quindi per fortuna il periodo è passato Adesso invece abbiamo il periodo di Ma ti sposi? Ma ti fai figli? Ogni periodo c'ha il suo E quindi ha le sue domande scomode Quindi meglio glissare Tipo anche sul lavoro Oppure le ferie Quindi non parliamo anche di ferie Che anche quella è una cosa Meglio fare finta di niente Mi piace questa musichetta Mi viene voglia di giocare Qualche gioco vecchissimo E di guardare Un canale retro Di retro gaming Allora Passiamo all'argomento della serata Che io non volevo trattare No scherzo In realtà è uscito come idea Sul gruppo facebook Ferie che vuoi dire È latino È latino È un vocabolo latino Come permessi Quindi un'idea che è nata così Un po' sul gruppo del Ficlub Italia Che tra l'altro è sempre lo sponsor Vediamo se funziona come fanno Ah no devo farlo Perché ho l'immagine invertita Quindi non ci riesco Qui c'è il login Che è sempre lo sponsor Numero uno Sponsor d'ufficio Perché giustamente Al momento Comunque è un gruppo facebook Ogni tanto passa qualche Un messaggio automatico Con il link Con un po' già di persone Adesso non ho guardato Non ho controllato L'ultima volta Quanti utenti ci sono Dentro Però Facciamo che è una community Abbastanza allargata Per cui Chi sviluppa in delfi Come Tra i vari luoghi Che può frequentare Come dire Questo è uno di quelli Più Più gettonati Come No 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 vado in palestra Nel tentativo di dimagrire Qualche chilo Ma in realtà Sta facendo la Ah 367 Sta succedendo che Mentre ci vado Parte del grasso Magari si trasforma in muscolo E quindi comunque Non calo di peso E venendomi più fame Sto peggiorando la situazione Quindi Però almeno Da persona Come dire Sessantenne Anagraficamente Sessantenne Sovrappeso Sto passando A persona Della mia età Sovrappeso Quindi Almeno No comunque Mi sta facendo Abbastanza bene Almeno Quando mi alzo dal letto Non sembro uno Che Che sia appena Cioè da tirare su Con un argano O qualcosa del genere Quindi Ammetto che Quei dei personal trainer Che mi tengono un po' Come dire Sotto Sotto frusta Quindi Che sia partiti con Prova a fare Questo numero di esercizi Poi riesci a Adesso siamo a livello di Me ne devi Me ne devi 20 Mi devi 20-30 Quindi Sei positivo Il muscolo Esatto Appunto Il muscolo pesa più del grasso Quindi appunto è stato Che il peso aumenta Quindi Però dai Almeno Almeno diventa Muscolo Forse Quindi Vabbè Comunque L'obiettivo è stare un po' Cercare un minimo Di muoversi Perché Siete benissimo Consapevoli tutti Che questo mestiere Ci Ci debilita un pochino Quindi 367 iscritti Beh Non sono Non è male Comunque Quindi se c'è bisogno Di aiuto Tecnico O di Di condividere qualcosa Legato a Delphi Ma anche su altre tematiche Quindi Direi che il gruppo Non è così chiuso Soprattutto se sono Goliardi Delphi Club Italia Lo cercate su Facebook È un gruppo Bello nutrito In cui potete partecipare Per avere una mano Per scambiare Quattro chiacchiere Ok Da lì è nata L'idea di parlare Della RTTI Quindi Avrei voluto studiarmi Qualcosina prima Ma Non Mi toccherà andare a memoria E che ovviamente Equivale a figura Pessima Però Visto che c'è un po' Di gente in chat Magari Mi ha dato una mano A Ricordarmi meglio Le varie cose Ma In realtà Era un po' Più un discorso Introduttivo Legato al fatto Di cosa ci si può fare Quali sono Le cose Che possiamo Utilizzare Cioè Fare un po' Una demo Di quello Che è un argomento Che secondo me È interessante E soprattutto Con l'introduzione Della RTTI Diciamo Avanzata Quindi Che tra l'altro Avrà Con più di dieci anni Perché mi sembra Che sia Arrivata con Delphi 2010 Se non ricordo male Dopo c'è tutta la serie XE Cioè Inizio un po' A non ricordarmi Più gli anni Grazie anche a quello Secondo me Ha dato una buona spinta Alla generazione Di tutta una serie Di librerie A una scrivania Ad altezza variabile Eletricamente Un walking pad Sotto Questo Ah è vero Che Vabbè La prossima volta Che Si fa una pizza Riccione Voglio vedere Come sei tecnologico Oppure con la scrivania Così posso camminare Ah io non riesco A fare A fare due cose Infatti Uno dei miei intenti Era Mentre Vado in palestra Penso un po' A cosa fare Nelle live Mi svago un attimo A volte Se non sto concentrato Non tengo neanche Il conto degli esercizi E siccome non ne voglio Fare più del dovuto Cioè Praticamente Mi assorbe Tutta la concentrazione Quindi non Non riuscirei a camminare Lavorando Qualcosa Mentre vedi Ah quindi Anche adesso Stai camminando In una valle verde Stai camminando Quindi Ce l'ha anche Omar Brussoni Che sicuramente Avrai dato l'idea O gliel'avrai data tu Io ho visto Quegli specie di Appoggia piedi Dove ci si mette Si fa un po' Di Come dire Ci si appoggia Un po' meglio Ma io Ho pure il ginocchio Ma io Cerco di Di trovare Una sedia comoda Ma Non mi sono mai Abituato a Questi tipi di Soluzioni Ergonomiche Come dice Giovanni Di Addo Giovanni Giacomo Giovanni Ergonomica Perché l'hai pagata Poco Quindi Ok Quindi Parliamo del nostro Argomento RTTI Cosa ci permette Di fare Allora In realtà Come discorso Introduttivo Non è una Una cosa nuova Perché in Delfi Esiste Io mi sento La musica un po' alta Forse Ma forse Sono solo io Esiste in Delfi Da Da un po' di tempo Anche se In una forma Un po' Ridotta Cioè Già Dagli albori Quindi In realtà È una cosa Che in Delfi Esiste Ma dagli inizi E Altri hanno copiato Perché Ricordiamo sempre Che a noi Dicono Che usiamo Strumenti Così Così vecchi Così Cioè Java Che si è distinto Questa settimana Per quella Bella Quel bel Bug Trovato Su Log4j Nasce nel 95 Come penso Java Tra l'altro E quindi Alcune idee Legate alla Reflection Alla Retrospection O come diavolo Retro inspection O come diavolo La chiamano In vari In vari linguaggi È una cosa Che comunque Anche in Reflection C'è anche in Dotnet Ovviamente Quindi esiste Praticamente Un po' Dappertutto Però Anche Def Inizialmente Ce l'avevo Quindi C'era un messaggio Che è finito In coda Di moderazione Mi ha scritto Che Ho consentito Al termine Porcata Quindi Non so A che cosa Ti riferivi Di preciso Quindi Esiste Indelfi Dagli albori Ovvero Il fatto Che Quando noi Compiliamo Il nostro Progetto In realtà Facciamo Un follower Che Siamo sentiti In cuffia Alebot 87 Benvenuto Noi Quando Compiliamo Arriva Con un po' Di ritardo Le nostre Applicazioni In realtà Già Inseriamo All'interno Dell'eseguibile Delle informazioni Sui tipi Quindi Il fatto Che Ad esempio Soprattutto in Delphi Possiamo Manipolare Degli oggetti Tramite L'Object Inspector È legato Al fatto Che Abbiamo Delle Classi Con Delle Proprietà Più Che Public Diciamo Ma Published In questo Caso Che Attivano Come dire Un'opzione Del compilatore Anzi Generalmente Vi dà un warning Se non la mettete La dollaro m Mi sembra Dollaro m Più Per attivarlo Dollaro m Meno Per disattivarlo Per far sì Che il compilatore Includa Delle informazioni Legate Ad esempio A delle proprietà Quindi Questo consente Con Delle Istruzioni Specifiche In questo caso Della unit Typeinfo Che è O system Typeinfo Per chi usa Momenclature nuove L'utilizzo Di una serie Di funzioni Che Accedendo A un oggetto Dei tipi Vi fanno Praticamente Vedere Vi restituiscono Non so Le proprietà Di che tipo Sono Eccetera Eccetera Quindi L'objet Inspector Che abbiamo Sempre utilizzato Per Per sviluppare L'abbiamo Sempre Adoperato Perché C'è Questa Funzionalità In quel caso Come dire Un po' Limitata Nel senso Che È limitata A quelle A quelle Proprietà Ci sono Tuttavia Ci sono Un sacco Di funzioni Anche per Accedere Le tabelle Virtuali Dei Metodi Le famose VMT DMT Metodi Dynamic Quindi È un È uno strumento Che già Abbiamo A disposizione Poi Da Delfi 2010 Se non Ricordo Male Ma Poi Andrò A controllare È Arrivata La cosiddetta RTTI Avanzata Diciamo Che le funzioni Che ci sono In Type Info Se le andassimo Un po' A vedere Analizzare Un pochino Non sono Proprio Intuitivissime In certi Casi Perché Ci danno Spesso Come valore Di ritorno Dei puntatori Cioè Magari Abbiamo Un tipo Ci restituisce Un puntatore A una struttura Dati Che è Usata In combinazione Con Con altre funzioni Di per sé Ci restituisce Altre informazioni Ancora Quindi Però Sono Procedure Cioè Non è Strutturata Benissimo È un po' Limitata Invece La RTTI Avanzata È una unit Nuova Appunto Si chiama RTTI O System RTTI Se usate Il nome Completo Dove C'è Fondamentalmente Un oggettino Che è Il nostro RTTI Context Quindi È un record Uno dei nuovi record Diciamo Chiamiamoli così I record Managed Che ha Metodi Con cui Dato un tipo Noi Possiamo Quindi È già strutturato Oggetti È già una cosa Un pochino più Usabile E intuitiva Possiamo Partire da un tipo E tirare fuori Non so Tutte le proprietà Tutti i metodi Sapere le proprietà Come si chiamano Di che tipo sono Assegnare un valore Quindi Quello che più o meno Possiamo fare Con la Quella vecchia RTTI Solo Come dire Realizzata un po' meglio Dal punto di vista Della forma Dell'API Ma Con la possibilità Anche di accedere In realtà A delle informazioni A tutto Quello che Non solo Ciò che è published Per così dire Ma anche Ai membri privati Ad esempio Di oggetti Quindi Praticamente Sapere qualsiasi cosa Legato Legato a un tipo Quindi Un tipo di dato Un tipo di dato Nel senso Che sia classe Che sia record Quindi Questo cosa Ci consente di fare Ci consente di scrivere Dei programmi Che rispetto A un'implementazione Come dire Molto molto specifica Può essere Codificate In maniera Più generica E alla fine Adattarsi A una Come dire A una gamma Di scenari Molto più Più ampi Rispetto a quelli Molto specifici Poi Poi in realtà Mi è venuto in mente Un esempio Che potremmo fare Al volo Quindi poi dopo Ce l'andremo a scrivere Per far capire Per far capire La differenza E quindi Entriamo un po' Più nell'ambito Di metaprogrammazione Ovvero Scriviamo sempre Codice Però Come dire È codice Che lavora A runtime Time E si adatta Alla struttura Dei tipi Che noi Gli forniamo E quindi Scritto una volta Sola Gestisce In questo caso Una casistica Di casi Più ampi L'uso Tipico Di cose Come la RTTI La Reflection A seconda di dove La trovate È ad esempio La serializzazione Cioè Io ho una classe Che è in grado Di prendere un oggetto E trasferirlo su disco Come fa Ovviamente Non possiamo Avere Cioè possiamo Ovviamente farlo Ma La cosa interessante Per chi scrive Codice di questo tipo È poter serializzare Qualsiasi oggetto Quindi non possiamo Semplicemente Accontentarci Di prendere un oggetto Sappiamo che Quelle qua Quattro proprietà E scriverle direttamente In un file Chiamandole Come dire Per nome Dovremmo fare in modo Di lavorare Su qualsiasi tipo Di dato E farci dire Al momento A runtime Nel momento In cui il programma gira Che proprietà Hai Di che tipo sono E quindi a quel punto Cioè ispezionare In questo modo La nostra struttura dati Appunto A runtime Quindi non in fase Di compilazione Questo vuol dire Che ovviamente Se facciamo cose Sbagliate Esatto Ottimo inserto Maurizio Gli ORM Infatti stavo per dire Maurizio Questa cosa Ha basato Il suo successo Perché Ovviamente Gli ORM Cioè Tutti quei Quei tool Che vi traducono Praticamente Vi generano Magari Delle classi O comunque Lavorano Con delle classi Dove voi Mappate dati Da un db Verso un oggetto Lavorano in questo modo Cioè il framework Che fa questo tipo Di lavoro Non lo possiamo scrivere Per ogni tipo Di verso Di oggetto Che usiamo Altrimenti Stiamo scrivendo Lo stesso codice Milioni e milioni Di volte Quindi dobbiamo Crearlo Affinché si adatti Automaticamente Alle strutture Che gli passiamo Poi Ovviamente Possiamo creare Dei binari Su cui muoverci In modo che Si possa passare Diversi tipi di dati Ma magari Che derivano Da una classe O che hanno Certe caratteristiche Cioè Dopo Questo ovviamente È Come dire Limitato Un po' Dalla fantasia Che Possiamo avere A seconda Dei casi E C'è un discorso Cosa da fare Che ovviamente C'è anche L'RTDI Si affianca Anche una serie Di strumenti Creati appositamente Per poter Aggiungere In realtà Delle nostre Informazioni Quindi Diciamo Nel momento in cui Compiliamo Noi sappiamo Che Le classi Che abbiamo Utilizzato I tipi Che abbiamo Utilizzato Le informazioni Che li riguardano Fanno parte Dell'eseguibile E si possono andare A ispezionare Vedremo come Ma noi Possiamo aggiungere Anche delle Informazioni Nostre Anche questo Come ad esempio Gli attributi O in javascript Si chiamano Decorator In java Penso Si chiamino Anche di Decorator Quindi O attributi Decoratori Li trovate Definiti così Sono degli oggetti Che noi possiamo Agganciare Ai nostri tipi Quindi Non so Una proprietà A una classe A un metodo Per Aggiungere Delle informazioni Personalizzate Che uso Ne facciamo Beh Poi dopo Proviamo E lo vediamo Nella pratica Quindi Anche questo È uno strumento Molto utilizzato Negli ORM Mettiamo Che abbiate Un ORM Che di fatto Carica in un oggetto I dati di una tabella Cosa può fare Ad esempio Questa Logica Che potremmo andare A scrivere O che è stata anche scritta Perché Da quel che mi risulta Quegli ORM Quei pochi Che ho visto Funzionare In delfi Come Iorm Dorm L'ultimo Noi delfini Ci abbiamo Gli attributi Esatto Ci abbiamo Due attributi Così Fanno Largo uso Non mi veniva Il nome Tricil Adesso mi è venuto Il nome Che sono Quei tre ORM Che ho visto Fanno molto Uso Di questi attributi Perché Nel momento in cui Si stabiliscono Delle convenzioni Ah Passava di essere scritto Proprio delfi Ci stava anche delfi Si esce Come dire Dalle convenzioni O comunque La convenzione Non è più Ha bisogno Di una specializzazione Queste attributi Ci possono venire In aiuto Però Diciamo Detto tutto così A voce Fa un po' Magari Non dico che fa schifo Ma Non intendo dire Questo Ma Intendo dire Che ovviamente Vedendo magari Qualcosa di più Pratico Si potrebbe Fare Come dire Un Capire meglio Questo è poco Ma sicuro Quindi Io ho già Lanciato Delphi Così Oh ciao 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 Giali Appena arrivata Non so se hai visto Le live precedenti Quella del Quizzone Che Grazie per il saluto Spero Spero che sia tutto Tutto a posto Tutto bene Quindi Strano Che non Siamo in live Assieme Pare che Sempre in live Con i giochini Ogni tanto Passo In realtà Io passo Per salutare Ma Quando passo Vedo il giochino Mi attacco Subito Non riesco A non Resistere A rispondere A fare il più Di parole Quindi Adesso Faccio Un Faccio Un Come si dice Un Shootout Ah Sei All'inizio Quindi Ottimo Infatti Mi sembrava Che giovedì Allora Buona live In questo caso Chi non la segue Se si vuole Rilassare Di solito Io Quando ho bisogno Di rilassarmi Vado a fare I giochini Oppure Vedo Le merdole Della buona notte Quindi ci vuoi Ogni tanto Che sono fiabe Alternative Prima di andare A nanna E quindi Grazie per Il passaggio Buona live Dunque Quindi Dicevamo Mi sono un attimo Perso Vediamo Un attimo Allora Cambio Adesso Adesso Ho la testa Rovesciata Ok Allora Così Abbiamo Il nostro Ide La musichetta Non è molto Carica Lascia un po' A desiderare Però Alla fine È molto Rilassante Quindi Così Ci accompagnerà Direttamente A letto Potrei andare A letto Ancora prima Della fine Della live Quindi se mi addormento Prima Ve ne accorgerete Allora Vediamo Esempio Pratico Quindi Iniziamo Tanto per divertirci A scrivere Un po' Di codice Facciamo La noiosissima Una noiosissima Console application Quindi Il codice Forse Non si legge Benissimo Adesso Lo Spantiamo Un po' Quindi Niente di particolare Allora Come scenario Come scenario D'uso Per provare A fare Come dire Una Una prova Di quali possono essere I vantaggi Di usare Le RTTI Mi sono posto Il problema Che in realtà Poi spesso Che ho dovuto Già implementare In un progetto Che sto facendo E l'ho fatto Senza RTTI C'è da dire una cosa Attenzione L'RTTI È un po' Come Come dire I funghi Non bisogna abusarne Perché altrimenti Danno Allucinazioni Adesso Scherzi a parte È chiaro Che Se voi Dovete scrivere Codice Che Lavora A stretto contatto Con un oggetto Codice applicativo Tradizionale Cioè La vostra applicazione Normale Quindi L'RTTI Va destinata Ad usi Dove Abbia un suo senso Perché rispetto Accedere a proprietà Di oggetti Ad esempio Tramite RTTI Cioè tramite una funzione Che magari La cerca per nome Dinamicamente Va a impostare il valore Fa tutta una serie Di operazioni È Mi viene a dire Molto più lento Cioè non che ce ne accorgiamo Però Come dire Se Ne abusiamo Ovviamente Non lo notiamo Rispetto a prendere Quell'oggetto E accedere direttamente Alla proprietà Perché in un caso Il compilatore Ci fa direttamente Accedere a una stringa A un campo Quindi abbiamo Un puntatore Andiamo dritti Alla locazione di memoria E ci scriviamo Quello che vogliamo O leggiamo Eccetera Se usiamo delle funzioni Come delle RTTI Vuol dire che Non facciamo Questo accesso diretto Ma utilizziamo Funzioni Che spezionando i tipi Alla fine Ci portano Sempre nello stesso punto Però Ci portano In un modo diverso Quindi Attenzione però Che questo approccio È più lento È chiaro che Laddove viene usato Tipo un RM O una logica Di serializzazione O qualcosa del genere È molto più elevato È talmente elevato Il vantaggio che ha Dal punto di vista Del Come dire Del Del beneficio Che ottengo Perché scrivo il codice Una volta solo E lo adatto A una marea di situazioni Rispetto a quel minimo Di tempo in più Che magari impiega Rispetto a Accedere direttamente A una proprietà O chiamare direttamente Un metodo Per contro Ovviamente Non devo fare tutto Con le RTTI Perché Non è Come dire Non è performante Come il codice Che scriviamo normalmente Anche se Come dire In DeFi Non abbiamo Garbis Colletto Non abbiamo Delle cose particolari Da gestire Dobbiamo ovviamente Rilasciare la memoria Abbiamo quest'onere Però Ci sono strumenti Che ci vengono in aiuto E alla fine È un ambiente deterministico Veloce E quindi Alcune cose Non siamo neanche Non dobbiamo neanche Preoccuparci troppo Quindi come scenario Ho pensato Ad esempio Mi è già capitato La necessità Di caricare Da un file Delle impostazioni Io generalmente Cosa faccio Mi faccio Un oggettino Che potrebbe essere Buono Non so Mettiamo che Allora Facciamoci Una Una cartellina Come la chiamiamo Fantasia estrema RTTI Demo No Reflection 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 Anche se poi In delfino Si chiama Reflection Ma Specchio Reflection Specchio Per specchio Delle mie brame E Perché è abbastanza Semplice E abbastanza Immediato Quindi come Come esempio Quindi non so Mi devo caricare Impostazioni Di un proxy Ecco Facciamo così Magari una cosa Anche che Viene fuori Abbastanza Facilmente Quindi faccio Il mio Reflection Entities Ok Una unit Inizio con Un type E dentro Ci metto T Configuration O Non so Configurazione Di un Server SMTP Che ne so Un pop 3 Quello che volete T Facciamo No Si dai SMTP Configuration Qualcosa del genere Questa musichetta Immagino la macchinina Che sta partendo Quindi una classe Come dire Normalissima Non nulla di che Ci mettiamo Ad esempio Qualche proprietà Quindi facciamo Una Property Host Di tipo Stringa Facciamo Ovviamente Qui Potete usare I metodi Potete usare Quello che volete Facciamo Un port Integer Read Port Write Port E Poiché Ci mettiamo L'utente La password Mi sarebbe piaciuto Cambiare un po' Tipo Ma va bene Fa lo stesso Username Write Username Anche una password Insomma Un pochino di cose Questo è un esempio Tipico Poi in realtà Io questa classe La sto creando Ma potrebbe essere Anche una classe Già presente In Delphi Ad esempio C'è una unit Con dei proxy Setting Per i componenti REST E così C'è già Quindi Magari Poi vediamo Sto pensando A una proprietà Magari Boolean O un float O qualcosa Del genere Però Vabbè Alla fine Come dire Il concetto Che Che importa Ok Control Shift C Così Ci aggiunge I nostri I nostri Campi Quindi abbiamo Anche i campi Dove andarci A salvare i valori Quindi Questa è la classe Che utilizziamo Per salvare I nostri dati Quindi molto semplice Generalmente Che ci andiamo a fare Andiamo a fare Magari un failini Dove Non so Ci Ci salviamo Questi dati Quindi Faccio Un Andiamo se riesco Ad aggiungerlo Forse me lo fa aggiungere Come file di test Faccio così Faccio Una bella Add Una bella Add Aiuto Tra l'altro Allora Facciamo una bella Add Facciamo Una tabella Configurations Non voglio Per troppo tempo In percorsi Ma lo voglio Fare un po' Allora Facciamo Una configurazione Di debug Ne possiamo fare Una per la Release Qui dentro Che ci andiamo a mettere Ci facciamo Un nuovo Documento Di testo L'ho creato L'ho creato Ma non lo vedo Perché Ok E come se Che si chiama Il nostro programma Reflection Lo chiamiamo Reflection Punto Ini Faccia Allora Host Smtp Aruba Punto It Port Cos'è La 25 Cioè Tanto questo Ovviamente E' fittizio Quindi Tra l'altro Mettere Uno username Username Pippo Password ABC Anzi 1234 Che è quella Più sicura In assoluto Quindi Questo ovviamente E' a titolo Esemplificativo Che mi capita Di fare Di solito Di voler Catturare Cioè Caricare Da un Fileini Quindi Che cosa Faccio Mi faccio Una unit Chiamiamola Tanto poi Non faremo Tanti file Quello che Conta un po' Il concetto Mi faccio Un T Configuration Services Non sto Neanche Stanziarlo Facciamo Un Facciamo Un Class Procedure Load Che prende Magari Allora Teniamo dentro La nostra Entities Qualcosa del Genre Oppure Class Function Ma Va bene Va bene Anche così Load Mi faccio dare Il path Load SMTP Configuration Qualcosa del Genre E qui Mi faccio Passare Config Che è Poi La SMTP Configuration Ovvero Qui dentro Che vado a fare Usiamo Ci importiamo Ovviamente La Mitica Unit Inifiles E poi Andiamo TeamMem Inifile Create Gli passo Il percorso Bisogna sempre Ricordarsi Di Quando si Crea Qui Bisogna Distruggere Tutto E Normalmente Cosa farei Una cosa Del genere Cioè Prendo Il mio Host Ho Il mio Inifile Creato E vado a fare Una Red String Adesso non mi ricordo più come l'ho fatto Così Ok Quindi questa è la sezione Poi c'è l'identificatore Che ovviamente è Host E Poi Senza la virgola E poi c'è il default Che magari è una stringa vuota Questo sta anche tutto su una riga Quindi Roba Roba del genere Per così dire E quindi nulla di Nulla di Nulla di Trascendentale E così via Si può fare Per tutto il resto Come ad esempio Lo username La password Quindi un bel Un bel copio In colla E' chiaro che per ogni progetto Per ogni file di configurazione Per ogni Sezione che avete Per ogni ambito Dovrete fare una cosa simile Generalmente perché Allora questo è una È un intero Quindi leggiamolo così Sì giustamente Essendo un intero Il default Bisogna che sia intero E non una stringa Quindi Ovviamente qui Un po' di Un po' di Come dire Di semplificazioni Sono possibili Perché Potreste ovviamente SMTP Configuration Section Cioè potreste farvi Delle costanti Cioè dopo ci si può Ovviamente Lavorare E quindi Come dire Semplificare un pochino Il codice Per fare qualcosa Di un po' più La password Nini Sì Ovviamente Sorvolo Ma Versione cryptata Beh questo potrebbe Potrebbe essere anche Un caso di studio Mettiamo che Cryptata Questo potrebbe essere Come dire Un Se abbiamo qualcosa Di reversibile Potremmo usarlo Per farci un esperimento Dopo E quindi potrei Anche decidere Di lasciarla lì Potremmo trasformare Ovviamente anche queste Come costanti Eccetera Eccetera Quindi Ogni volta che avete Un oggetto Ripetete un path Ecco La cosa Dov'è che Uno potrebbe dire Potrei usare Reflection Potrei usare L'RTTI Quando vi trovate Ad esempio Avete un oggetto Avete una proprietà Host La sezione Ha il nome Praticamente Della Della classe Cioè Ha questo nome qui Come dire Total La T Però Praticamente Finché l'oggetto È di questo tipo Il nome che usate È sempre lo stesso Poi andate A indicare Una stringa Che è il nome Della proprietà Cioè Quando vi trovate Che scrivete Del codice E per adattarlo A diverse casistiche Quello che fate Copia e colla Copia e colla Cioè Già lo copiate Incollate Per la stessa Implementazione Quando ne dovete Fare un'altra Farete più o meno La stessa cosa E di nuovo Praticamente Avete un codice Che state Ripetendo Ma che potrebbe Come dire Essere Parametrizzato Cioè Potrebbe essere Che io Vada a fare Un red String O red Integer O meglio Potrebbe essere Il pattern È questo Più che Econfig Diciamo Un oggetto Poi avete Un property name Che varia Di volta in volta E avete Inifile Read Property Type Cioè La read è seguita Da un tipo Che generalmente Corrisponde Al tipo Della proprietà Qui avete Un class name Cioè il nome Della classe Qui avete Di nuovo Il property name Cioè il nome Qui viene Replicato Qui come Stringa E poi Un default Eccetera Eccetera Cioè Praticamente Noi abbiamo Questo pattern Che si sta Ripetendo All'inverosimile E ogni volta Lo andiamo A replicare Andando poi A prendere A mettere Qui un nome E a replicarlo Qui A duplicare Questa roba Quindi E questo Per ogni progetto Per ogni oggetto Per ogni file Per ogni Per ogni impostazione Poi Magari ci sono Ad esempio Delle regole Di validazione Se La porta È inferiore a zero Non è valida E quindi Annetto che Dovremmo leggere Un intero Ma non abbiamo Un Secondo me Un read Abbiamo Un read Integer Abbiamo L'int64 Non abbiamo Altri tipi di Quindi Magari Potrebbe essere Che noi Tra le varie cose Che leggiamo Leggiamo Una directory E a quel punto Dovremmo validare Se la directory Esiste Oppure no Dovremmo dirgli La porta Deve essere Maggiore di zero Cioè Magari Abbiamo anche Delle regole E quindi Di nuovo È codice Che duplichiamo Mentre Basterebbe Cioè L'ideale Sarebbe Dire Facciamoci Un Caricatore Di Setting Dove Lasciamo Che lui Seguendo Questa Convenzione Vada A caricarsi I setting Usando Il metodo Giusto Per il tipo Appropriato E per la Proprietà Che legge Cioè Questo È un ambito In cui L'RTTI Potrebbe Venirci Tranquillamente In aiuto Come potremmo Realizzarlo Allora Questo Potremmo Rinominarlo Ad esempio Con Old style Questo è Allora Questo È Et Configuration Chiamiamolo Provider Questo È il Vintage Questo È il Passato Quindi È il Vostro Passato Che non Ritornerà Più Nel momento In cui Utilizzerete L'RTTI Quindi Usiamo Una Cosa Ovviamente Dobbiamo Provare Se Sta Roba Funzione Quindi Io Farei Una Cosa Di Questo Tipo Andrei a mettere Qui Un bel To String Anche Questa Cosa Che non Allineano I metodi Sull'override Ancora Cioè Mi sembra Una cosa Talmente Banale E Segnalata Talmente Tante Volte Facciamocela Un attimo Cosa Restituiamo Una rappresentazione String Dell'oggetto Usiamo La Format Usiamo La Format Se importiamo Anche La Unit Relativa Che deve Essere Questa Forse Forse Si Forse No Forse Gli manca Gli Argomenti Ok Si Giusto Così ci Stampiamo Un po' Quello Che c'è Qua Dentro Tipo Host Uguale Stringa Port Uguale Valore Username Uguale Password Uguale Qui La La Sicurezza È Niente In Questo Allora Mettiamo Giù Allora F Port F User Name F Password Tiè Così abbiamo Anche Una Rappresentazione String Da Stampare Se Per Caso La Vogliamo Vedere Perché Allora Abbiamo Messo Questo Bell File Quello Che Vorrei Fare Andarlo A Copiare In Automatico Nella Cartella Dell'eseguibile Questo Perché Cioè Torniamo Un attimo Al programma Principale Che Ancora Non c'è Niente Allora Readline Mettiamo Readline Giusto Per Da usare Come Attesa Nel Caso Quello Che Vorrei Fare Provider Vintage Load SMTP Configuration Allora Linipath O mettiamo Path Basta Lo Prendo Dal Nome Dell'eseguibile Quindi Param Param St Non ce l'ho Qui c'è Il nome Dell'eseguibile Andiamo a Cambiare Estensione Mettiamo Lini Così Non ci dobbiamo Preoccupare Di Dare Allora Di scegliere Un nome Quindi ci aspettiamo Di trovarlo Già Nella Cartella Dell'exe Quindi Prendiamo TPath Change Extension Prendiamo Il nome Dell'eseguibile Ci mettiamo Come Estensione Il file Indy Quindi si chiamerà Reflection Punto Vini Esattamente Come questo Però Se io Lo vado A compilare Immagino Che Il ragazzo Qui Mi faccia Vediamo Se compila Perché Infatti Ci manca Ok Ci manca Ovviamente Var L Config Due punti Uguali T Configuration Come T Smtp Configuration Create Questo Dobbiamo Anche Distruggerlo Alla fine E mettiamo Anche quella Roba lì Ci carichiamo E qui Andiamo a Caricarci I parametri Dal path Nella Nostra Config Config Io Stamperei Config To String Prima E dopo Così Dovremmo Trovarlo Praticamente Con i valori Di default E poi Trovarlo Come dire Riempito Quindi Questo È Questa Ancora La reflection Non l'abbiamo Usata L'RTTI L'abbiamo Usato Solo Il La versione Vecchia Quindi Questa È Quella Che Noi Dovremmo Replicare Per Ogni Configurazione Che Andiamo A Creare A Questo Punto Quindi Ho Fatto Il Build Stavolta Stavolta Dovrebbe Esserci La Cartella Win32 Debug Manca Il Fileini Gli Diciamo Qui Ci Vengono Comodo Un po Gli Eventi Di Post Build Nei Build Events Sapete Che Potete Definire Un Comando Da Eseguire Ovviamente Se La Build Va A Buon Fine Io Ne Metto Per Tutte Le Configurazioni Così Se Ci Scappa Magari Un Come Diamo 64 Bit Non Dovrebbe Darci Troppe Noie Dunque 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 Cosa Dobbiamo Fare Dobbiamo Fare Una Copy Dobbiamo Fare Copy Allora Il Comando Copy Da Configurations Quindi Questa Cartella Poi Debug Il Profilo Che È Nella Qui Configuration Name Ok Allora Slash Slash Config Slash Asterisco Punto Ini Ok Cioè Vado Nella Configuration Vado Sotto Debug In questo Caso Prendo Il File Ini Tutti I File Ini Ci sono In questo Caso Ce n'è Uno E Li Vado A Copiare Nell' Output Directory Ce l'ho Qua Sì Nell' Output Directory Quindi Tra doppi Apici Mettiamoci Output Directory Slash Output Name Output Name Senza Estensione Perfetto Voglio Quindi Reflection Punto Ini Così Se per caso Qui Cambio Anche Il Nome Mi Garantisce Che Il nome Che Venga Usato Sia Quello Dell'ex Con Punto Ini Build Vediamo Se va E Qua E Qua Faccio Il mio Failini Cioè Una Copia Di Quello Che Vedevamo Quindi E Sempre Lui Ok Perfetto Così Magari Potremmo Farci Una Versione Release Eccetera Eccetera Cioè Potremmo Andare Qui Farci Una Copia E Quindi Farci Anche Una Versione Release In Venga Usato Questa Versione Al Post Dell'altra Tanto Vengono Tutte Copiate Sotto Win32 Debug E Quindi Qui Abbiamo Linee Di Debug Nell'altra Parte Abbiamo Linee Di Release E Funziona Sia Con 32 Bit 64 Bit Perché Abbiamo Lasciato Tutto Molto Molto Dinamico Insomma Se Copia Il File Indice Dovrebbe Trovare Quindi Questa È La Questione Importante Ok Ok Quindi A questo Punto Il File Dovrebbe Trovarlo Quando Parti Il Programma Trova Quindi Il File In Nella Cartella Crea L'oggetto Di Configurazione Stampiamo I valori Che ci sono Dentro Tutti Vuoti Usiamo Il Nostro Caricatore Di Configurazione Vintage Quindi E Poi Distruggiamo E La Fine Se C'è Un'eccezione Scriviamo L'errore E Chiudiamo Il Programma Quindi Se Io Lancio Questa Roba Qui In Fiducia Quello Che Ci Troviamo Qui È Host V8 Porta Zero Quindi Tutti I campi Inizializzati Come Tipicamente Fa Delphi E Tutti I Linguaggi Di Programmazione E Poi Leggiamo Quello Che È Venuto Su Dal File In Quindi Questo È Il Comportamento Corretto Che Io Mi Aspetto Però Vorrei Farlo Con Implementazione Che Non Sia Da Scrivere Ogni Volta Se Cambia La Configurazione Perché Se Noi Adesso Qui Mettiamo Un server POP3 Oppure Una T Proxy Configuration Ok Dobbiamo Ovviamente Standard Il caricamento Anche Di questa Classe Dobbiamo Andare Per ogni Classe Per ogni Proprietà A fare La sua Read Quindi Esploriamo A questo Punto La questione Della Reflection Chiudo Un attimo Questo Progetto Così Lo vediamo Un attimo In separata Sede L'RTTI Come Come Funziona Facciamo Un'applicazione VCL Volante Mettiamo Ci butto Dentro Un button Cioè Supponiamo Ad esempio Di volere Stampare La caption Di un button Però Quali Altri Componenti Hanno Una caption Il panel Abbiamo Anche Un panel Quali componenti Hanno Una caption Anche La label Quindi Qui c'è Una label Quali Non ce L'hanno Ad esempio Controllo Edit Alla proprietà Text Ma non Ha La caption Quindi Supponiamo Di voler Come dire Andare a stampare La caption La proprietà caption Se è presente Cosa potremmo fare Sul click Magari Abbiamo Un evento O un click Del pulsante E' chiaro Che se sappiamo Che il sender È il nostro Come dire Controllo È un pulsante Ci viene Facile Andare a fare Una show message Di quella Che è la caption Del pulsante Quindi potremmo In realtà Stabilire Una serie Di if Quindi dire Che se è un pulsante Allora castiamo Pulsante Leggiamo la caption Se è un tpanel Allora usiamo Il panel Però qui Dobbiamo fare Un if Per ogni controllo Che vogliamo Gestire Ma io potrei Volerli gestire Tutti E voler Discriminare Solo il fatto Che la La proprietà caption In sé Ci sia O meno Questi sono i casi In cui ci viene In aiuto L'RTTI Adesso qui Button1click Chiamiamolo Controlclick With Lable Click No With Caption Click Così Per sottolineare Che qui Potremmo Prendere Quel sender Può essere Qualsiasi controllo Come possiamo Usare L'RTTI A nostro Vantaggio Allora Intanto Possiamo andare A importarci Le unit Delle RTTI Che sono System RTTI E system Ad esempio Typeinfo Queste sono Le due Unit Diciamo La versione Non lo salvo Le unit Ovviamente Di cui abbiamo Il sorgente Dove abbiamo Tutti i vari Tipi di dati Prop type Published property Abbiamo un sacco Di funzioni Che ci consentono Di recuperare Delle strutture Dati Che descrivono I nostri oggetti Passandoli Ad altre funzioni Che ci dicono Se la proprietà Publish Public Eccetera Eccetera Lavora Principalmente Con questi Record Typeinfo Dei puntatori Quindi È un po' All style Anche questa Questa si Che è un pochino Vintage Però questo Come dire È il core Da cui poi Deriva tutto il resto Mentre la system RTTI Ci dà Un qualcosa Di un pochino Più di alto livello Ovvero Una visione Usando Programmazione Oggetti Che ci consente Di esplorare I nostri tipi In maniera Un pochino Più Semplice Un po' Più facile Tra l'altro Tutto ha inizio Da questo Questo record Quindi I nuovi custom record È un record Quindi Lo possiamo Utilizzare direttamente In un contesto Senza doverlo Cioè lo possiamo Creare Quello sì Ovvero Inizializzare Un nuovo record Ma non dobbiamo Farla free Non dobbiamo Fare tutte queste cose Ed è Come dire Il tipo Che Sulla nuova RTTI Estesa È un po' Il nostro Punto di ingresso Ovvero Se noi utilizziamo Qui facciamo L context Quindi usiamo Questo oggetto Questo record RTTI context Create Lo inizializziamo Questo context Ci consente Di esplorare E ottenere Informazioni Sui tipi Ad esempio Andiamo a vedere Un attimo I metodi Abbiamo un GetType Che Utilizza Come sempre Il type info Il pointer Quindi alla struttura Dati Ma ne abbiamo Uno che Ragiona Con un T class Quindi con una Classe Quel getType Cosa fa Ricevendo in input Una classe Ci dà Un TRTTI Type Cioè Un tipo Di dato Un record Con dei metodi Che ci consentono Di Acquisire Delle informazioni Su quel tipo Ad esempio GetType Che classe Possiamo passare Vogliamo andare A ispezionare Se nel nostro Sender A prescindere Dal tipo Cioè nel senso Che noi non scriviamo Chiaramente Dei tipi Nel nostro codice Ci interessa Sapere solo Se è una proprietà Caption Quindi tutto lì Quello che vogliamo Sapere Quindi cosa facciamo Dobbiamo Estrarre informazioni Sul tipo Quindi andiamo Sul sender Qui lui come Parametro vuole Un pointer Una classe Quindi Usiamo ClassType Quindi il nostro Oggetto Andiamo su ClassType E otteniamo La classe Questo GetType Ci dà un oggetto Con cui Noi possiamo Riflettere Appunto Quello che c'è All'interno Di questa classe Ovvero Con un punto Possiamo Recuperare Tutti i metodi Recuperare i metodi Che hanno Un certo nome I campi Recuperare Le proprietà Possiamo Come dire Ispezionare Tutto ciò Che costituisce Questo tipo Arrivando Al tipo Di base Sapendo Se è un record Se è un set Se è una classe Se ha degli attributi Eccetera Eccetera Possiamo Praticamente Sapere tutto Ovviamente Se facciamo Questi GetMethod Non è che ci danno Il metodo Ci danno Un RTTI Metodo Cioè Ci danno Un oggetto Che ci consente Dato È un array Di oggetti Che ci danno Informazioni Sui metodi Che hanno Il nome Che noi abbiamo Indicato Quindi Quello che otteniamo È sempre Un qualcosa Che estrae E ci informa Su quello Che vogliamo sapere Ad esempio Noi vogliamo sapere Se è presente Una proprietà Che si chiama Caption Quindi andremo Su GetProperty GetProperties Ovviamente Le otteniamo tutte GetProperty Andiamo Dritti Sulla proprietà In questo caso Ci chiede Name Come stringa E noi sappiamo Che il name Della proprietà Che ci interessa È Caption Quindi Creato Questo RTTI Context Abbiamo Questo record Con Dei metodi In realtà Pochissimi Cioè Tutto inizia Con un tipo Che possiamo Anche cercare Per nome Quindi usando La unit E il nome Del tipo Per stringa Quindi possiamo Anche Potremmo anche Chiederlo all'utente Quindi Questo è poi Il beneficio Della Reflection Cioè Esploriamo I tipi In maniera Dinamica A runtime Quindi Non scriviamo Codice Già Che si basa Su una struttura Fissa Ma la possiamo Andare a verificare A runtime Quindi Partiamo Da un tipo Che è una classe In questo caso Il class type Del sender E quindi Dell'oggetto Che ci viene passato Che non sappiamo Di che tipo è Ma semplicemente Dinamicamente Lo andiamo A tirare fuori Così Andiamo A recuperare La property caption Ovviamente La proprietà Può esserci Può non esserci Quindi Scriviamo Qualcosa del genere Potremmo anche Dividere un po' Dividiamo un po' Le L Che allora Chiamiamo L Sender Type Così Facciamo un po' Andiamo per gradi Recomponiamo Il tipo Caption Prop Usiamo RTTI Type Cioè L'oggetto Che ci viene restituito Da questa chiamata È un qualcosa Che ci consente Di esplorare Il tipo Get property Ci restituisce Un TRTTI Property Ovvero Un oggetto Che recca Le informazioni Sulla proprietà Caption Allora Intanto Potrebbe essere Che la proprietà Non c'è Quindi noi potremmo scrivere Che se Le caption Property È assegnato Allora In tal caso Faremo tutte le nostre Valutazioni Altrimenti Quindi ad esempio Se non è assegnato Potremmo dire Show message Mettiamo Caption Non presente Ok Qualcosa del genere Altrimenti Il nostro Caption Prop Contiene Tutto ciò Che C'è da sapere Ovvero Se facciamo Un punto Possiamo Recuperare Il valore Di una proprietà Ovviamente Dandogli Instance Pointer Cioè Dato Un oggetto Che appartiene Al tipo Di cui Noi abbiamo Recuperato La proprietà Possiamo andare A recuperare Il valore Oppure Possiamo Impostarlo Oppure Possiamo Sapere Se La proprietà È Readable Se è Writable Qual è La sua Visibilità Visibilità Inteso Come Ovviamente Visibilità Member Visibility Ovvero Privata Protetta Public Published Vedete Questa è tutta roba Di Typeinfo Quindi Disponibile Possiamo Leggere Praticamente La struttura Del nostro Oggetto Quello che ci interessa In questo caso È Risalire Alla Caption Vere e Propre Quindi Caption Value Come Possiamo Possiamo Accedere Alle informazioni Della proprietà Caption E dire Leggiamo un valore Da questa proprietà Qual è L'oggetto Da cui vuoi estrarre Il valore Sender Quindi Qui abbiamo Le informazioni Di una proprietà Che appartiene Al tipo A cui appartiene Sender Facciamo Get Value Il valore Di ritorno Un t-value Perché Lo sintetizzo In maniera Brutalissima È un segnaposto Per qualsiasi Tipo di valore Che noi potremmo Recuperare Perché la proprietà Può essere Stringa Può essere È un contenitore Che oltre al valore Ci consente Di Sapere Informazioni Su quel valore Di che tipo è E convertirlo Eventualmente In altri tipi Di dati O farci Qualcosa Quindi È un po' Come avere Un tipo Che rappresenta Il valore In sé Piuttosto Che il valore Che contiene Oltre al valore Le informazioni Sul valore Quindi Prendetelo Come un variant Moderno Quindi Il variant È legato Ovviamente Alla tecnologia Com Mentre T-value È più Come dire Più delfi Like Quindi più Banalmente Quindi Il valore L'abbiamo recuperato Ma è di tipo Sarà un t-value Se ci andiamo Sopra Probabilmente Ce lo dice Se completiamo Il codice Caption Value E t-value Però Tra i vari metodi Che ha From variant Poi avrà Anche Una conversione Faccio ToString E quindi Lo converto In string Tra l'altro So che è una stringa Quindi questa Appurazione Senz'altro È possibile Quindi Quindi creiamo Il context È un record È un custom record Vuol dire Che quando usciamo Dallo scope Il record Viene Come dire Allocato Sullo stack E quindi Scompare E si Tira dietro Anche tutti Gli altri Oggetti Gli altri record Che abbiamo Creato A partire Da quel contesto Quindi Non dobbiamo Metterci a ripulire nulla Ma una volta Che l'abbiamo creato Lui va A deallocarsi Diciamo Automaticamente Assieme a tutti Gli altri oggetti Quindi da questo context Andiamo nel nostro Sender Leggiamo la classe E facciamo Get type Quindi ci facciamo dare Informazioni sulla classe Ad esempio Informazioni sulla proprietà Caption Se non la troviamo Scriviamo che non c'è Altrimenti Recuperiamo il valore Della proprietà Ispezionando Andando sull'oggetto Sender E lo visualizziamo Questo cosa ci consente Di fare Ci consente Di potenzialmente Prendere Associare Il click Sul pannello Sulla label E anche Sull'edit Tutti a questo Evento Click E quindi Potremmo anche Aggiungere Qualsiasi altro Tipo Anche una list box Una check box Tutto ciò Che ovviamente Può Una scroll bar Quello che volete Quindi Mettiamoci anche un memo Se vogliamo Quando clicco sul memo Quindi una reazione Ce l'avrò Perché ovviamente Andando di reflection Vuol dire che Noi potremmo avere Dei controlli Che ancora Non sappiamo Quali sono Volendo aggiungere Di nuovi Ogni volta Quindi Il concetto Di questo memo La fine Qual è Che se noi Lanciamo Questa applicazione E premiamo Il button Qui scrive Button1 Quindi ha stampato La caption Del button Se clicco Sul pannello Scrive Panel1 Quindi noi Ce ne siamo Altamente fregati Non abbiamo scritto Codice Che discrimina Per tipo Abbiamo scritto Codice Che dice Partendo dal tuo tipo Dammi informazioni Su quel tipo Ad esempio Le proprietà Dammi informazioni Sulla proprietà Caption Se c'è Se c'è Dammi il valore Andandolo a prendere Da questo oggetto Che la proprietà Ce la deve avere Perché È il tipo Che sto ispezionando E quindi La stampiamo Quindi sul panel E sulla label Che hanno la caption Io mi aspetto Di vedere questo Se clicco Sull'edit Caption Non presente Abbiamo ispezionato Il tipo Edit Abbiamo fatto Get property Caption Ci ha dato Ci ha risposto Picche Cioè la proprietà Non c'è E quindi Non la possiamo Leggere Quindi Senza Come dire Fare capo Al tipo Noi qui Stiamo Agendo Dinamicamente A runtime A seconda Della presenza O meno Di questa proprietà Dentro Al componente Quindi Questo è un po' Un esempio Di come usare A livello proprio Basso Basso Livello Ma anche In un'applicazione Tradizionale Se abbiamo Uno scenario Simile E non vogliamo Prescindere Potremmo Diciamo Che se riusciamo A fare un cast Diretto E sempre Questo approccio Ovviamente Sarà sempre Più lento Del fare Una cosa Di questo tipo Cioè Castare Un oggetto E accedere Alla proprietà Diretta Cioè Questo ovviamente Molto più veloce Perché qui Ci si scomoda Nel Andare a analizzare Delle tabelle Con le informazioni Che ci sono Le informazioni Che riguardano Il tipo Quindi questo È Un esempio Semplice Come la Usiamo Nel nostro Progettino Reflection Che abbiamo Già predisposto Per fare Più o meno La stessa cosa Quindi Oltre al nostro Configuration Provider Vintage Andiamo a Codificare Il Configuration Provider Anzi Chiamiamolo Modern Quindi Il nuovo Quindi avremo Una logica Molto simile Però dobbiamo Stare attenti A configurarla In maniera Che sia Dinamica Cioè che funzioni Ad esempio Con qualsiasi oggetto Quindi qui Non useremo Tsmtp Configuration Ma Potremmo dire Qualunque tipo Di Tipo Qualunque tipo Di classe In cui Noi vogliamo Caricare Dei valori Provenienti Ad esempio Da un file Quindi Quale sarà Questa classe Quella che Vuoi tu E quindi La primo step Da fare E rendere Questo Come dire Questo Questo tipo Generico Quindi qui Possiamo Veramente Sfruttare I generics Ovvero Dire che Utilizzare Questa classe Dobbiamo Specificare Un tipo Che chiameremo Tconfig Questo è un Segnaposto Cioè Sta a Indicare Che la nostra Configurazione Sarà di tipo Tconfig Che tipo È Tconfig Nel momento In cui andiamo A chiamare Il nostro Load Che non sarà Ovviamente SMTP Configuration Ma Load Configuration Noi diremo Che questo Sarà Un smtp Config E caricheremo Quindi un smtp Config Se sarà Una classe Di altro Tipo Lavoreremo Su una classe Di altro Tipo Quindi qui Stiamo lasciando Aperto Stiamo creando Un template Cioè Una classe Che potenzialmente Lavora Con un tipo Che al momento È un jolly Questo è L'effetto Dei generics E a run time O comunque No non a run time Ma nel momento In cui scriviamo Il codice Quando andiamo A chiamare Il metodo Dobbiamo Sostituire Questo Tconfig A un tipo Che sarà Il tipo Dove noi Vorremmo Ovviamente Salvare Le impostazioni Il path Del file Linee Rimane Ovviamente Una stringa Quindi abbiamo Creato Come dire La versione moderna Generalizzato Il nome Load Load Configuration Oppure Visto che Già Un configuration Provider Potremmo dire Load Into Carica In Cioè Gli diamo Magari Un nome Un pochino Più Sintetico Tanto Già Abbiamo Configuration Qui Ok Quindi Control Shift C Qui c'è Da scrivere L'implementazione Qui viene Ovviamente Il Il Bello Faremo Uso Dell'RTTI Quindi Ci andiamo Importare Il nostro Type Info Ci andiamo Importare Il nostro RTTI Ad esempio Non faremo Una cosa Molto Diforme Da quella Che abbiamo Già Fatto Prima Per accedere Alla Caption Quindi Qui Non vado Magari A cercarmi Come dire Una proprietà Specifica Però Potrei Come dire Cercarmi Delle proprietà In generale Quindi andare A vedere Io non so Qual è l'oggetto Che mi verrà Come dire Passato Quindi Come dire Cercherò Di determinarlo Al volo In questo caso Di capire Quali sono le proprietà Verificare Di poterle scrivere Capire Di che tipo Sono E in base A quello Come dire Andare a fare Il caricamento Allora C'è una parte Di codice Che Vabbè Quella rimarrà Ovviamente Uguale Ossia Quella Dell'ini file Che andiamo A creare E poi Alla fine A distruggere Quindi Qui Andiamo Ad aprire Il nostro file Per la configurazione E lo distruggiamo Quindi Che setting Andiamo a caricare Non sappiamo Nulla di questo Config Ecco Forse Adesso Per esigenze Di esempio Magari Potremmo Forzare Il fatto Che sia una classe Perché Attenzione Che Se si lavora Con un record Non abbiamo Delle property Ma abbiamo Dei field Quindi Potremmo Scrivere Una logica Molto generica Che dice Ma è una classe Allora Guardo le property Oppure Guardo I field Nel caso Sia un record Cioè Secondo Del tipo Che passiamo Quindi Qui siamo stati Veramente Molto generici Ma Potremmo Andare Ad aggiungere Qui Quello Che si chiama Un constraint Cioè Una costrizione Scritto Così Questo Due punti Class Vuol dire Che Tu puoi passare Il tipo Che vuoi Ma ad esempio Non può essere Un record Non può essere Un booleano Non può essere Perché ci aspettiamo Cioè Non Non ci aspettiamo Qualsì Ci aspettiamo Qualsiasi tipo Di oggetto Però che sia Un oggetto Quindi qui Stiamo già Facendo Una forzatura Non è un obbligo Però ovviamente Se io non Metto questo Qui potrei scrivere Anche string O boolean Quindi Cioè Diventa Quello che noi vogliamo È avere In ogni caso Un oggetto Per riempire le proprietà Con i setting Che abbiamo Nel file Quindi esattamente Quello che facciamo Prima Per cui Qualche Come dire Forzatura La dobbiamo fare Ma potremmo anche Adattarci A rimanere Il più generici Possibile Quindi gestire Anche Una Una gamma Di scenari Molto più ampia Che roba Ci scriviamo Qui Andiamo a scrivere Ad esempio Prima cosa Da fare È Determinare La sessione Supponiamo Anche qui Ovviamente Non è che Non lavoriamo Per convenzioni Potremmo dire Che la sezione Da qui Che andiamo a cercare In questo file Che magari Contiene Impostazioni Per un sacco Di altri oggetti La sezione Nella nostra Come dire Nel nostro standard Che ci siamo creati Può usare Come configurazione Il fatto di essere Uguale Al tipo Di dato Senza Ad esempio La T Quindi La sezione Quindi Quello che Possiamo fissare Ad esempio È che Il Section La section Del file Inni Sia In questo caso Quindi abbiamo Il nostro Config Il fatto di aver detto Che deve essere per forte Un oggetto Con quei due punti Class Quel constraint Fa sì Che noi Anche se qui Non ce lo dice Possiamo Accedere a qualcosa Del genere Siccome un oggetto Erediterà Dati object Quindi avrà Class type Come proprietà E quindi Se abbiamo anche Un class type Abbiamo anche Un class name Quindi il nome Della classe Quindi qui Section Se noi Immaginiamo Ovviamente Di passare Un T Smtp Configuration Qui stiamo dicendo Che la sezione Sarà uguale A A questo valore Potremmo Ad esempio Già Fare in modo Che Creare Ad esempio Già una distinzione Tipo Ad esempio Se section Starts With Non mi da Dov'è che c'era L'helper Era in Era in System Sys Utilis Forse C'è l'helper Che inizia con Sì è qua C'è inizia con T Allora La sezione È uguale Alla sezione Substring Partendo da Uno Quindi Così Li togliamo Forse Zero Inizio Della string Se facciamo Substring Da uno Praticamente Andiamo Partiamo da qui E andiamo fino in fondo Quindi di fatto Gli togliamo Il primo Il primo carattere E arriviamo ad avere Questo valore E questo è già Il valore Della nostra sezione Quindi qui Non stiamo ancora usando Tecnicamente Le Ossia Sì Perché comunque Accediamo al tipo Della classe Accediamo al nome Della classe Ancora non è RTTI Ma già è qualcosa Che si basa Sul 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 tipo Quindi Dobbiamo A questo punto Caricare i setting Quindi dobbiamo Sapere che Ad esempio Il nome del setting È uguale al nome Della proprietà Quindi ci servono Le proprietà Dobbiamo ispezionare Il nostro tipo Che facciamo Quindi Andiamo a creare Il nostro Il nostro Context Il nostro RTTI Context Per Fare Appunto Tutte queste Operazioni Ad esempio Cosa potremmo fare Potremmo dire Get type E Accedere Al Class type Della nostra Configurazione E quindi Iniziare a capire Un po' Come è fatto L'oggetto Che ci è stato Passato Sappiamo solo Che deriva Dati object Ma non sappiamo Assolutamente Nulla Se non il nome In questo caso Quindi Var L Class Type Magari Facciamo così Magari Viene un pochino Più Così evitiamo Delle ripetizioni Anche se Quindi abbiamo Il class type Abbiamo La La section Dell'ini Se inizia Con T Lo togliamo Così Perché non è bello Nellini Magari avere Delle T Davanti Oddio Alla fine Quindi Get type Abbiamo Informazioni Sul tipo Ci potrà servire Qualcos'altro Forse Credo di no Nel caso Poi Ottimizziamo Una volta Che abbiamo Informazioni Sul tipo Possiamo Dirgli Non Get property Ma Get properties Ovvero Dammi Tutte le Proprietà Quindi Dammi Informazioni Sulle Proprietà Di Questo Tipo Quindi Non lavoriamo Sull'oggetto Al momento Ma Siamo partiti Dall'oggetto Per avere La classe Dalla classe Per avere Un oggetto Che ci dà Informazioni Sul tipo Perché tutti Gli oggetti Avranno ovviamente Queste proprietà Quindi Noi stiamo Prescindendo Stiamo guardando Come è fatto Questo Tconfig Ovvero Che proprietà Quindi Potremmo Ad esempio Farci un bel Non Farci un bel Ciclo L prop E qui Iterare Sul Get properties Quindi Accedere al tipo Prendere le proprietà E denumerarle Quindi L prop È La proprietà Di volta in volta È una delle proprietà Di questo tipo Ovviamente Ovviamente L'oggetto Record Di tipo RTTI Property Che roba ci dà Ad esempio Ci dà il nome Ci dice Se Ha un nome Visibilità Se è leggibile Se è writable Ad esempio Io potrei dire Che Che if not L prop Is writable Then Passiamo alla successiva Perché Se non riusciamo a scriverla Non riusciamo A caricare Qualcosa del file Lini Per metterne la proprietà Nel momento in cui proviamo a fare Un'impostazione del valore Praticamente A runtime Ci verrà segnalato Ovviamente Un errore Perché la proprietà Non è scrivibile O comunque Diciamo Mettiamo anche Che Magari riusciamo Però Non è Deontologicamente Corretto Scrivere Però potrebbe avere Non ha la parte di Variety Quindi non sappiamo Le variabili in line Sono interessanti Ma felice Utilizzarle Con parsimole Genero confusione Sono di parere Uguale Ma opposto In realtà Le trovo molto comode Perché Tutta questa routine Le avrei dovute dichiarare Tutte in alto Mentre in questo caso E attenzione Che Questo RTTI Context Se lo dichiaro qui Esiste dall'inizio Mentre qui viene allocato Solo in questo momento E Quando si lavora Con i Managed Records Dichiararlo in linea O dichiararlo All'inizio Non è proprio La stessa cosa Perché In alcuni casi Ci sono delle assegnazioni Se io Voglio assegnare un record Un'altra variabile Dichiaro tutto in alto Di quel record Verrà fatta la creazione Poi l'assegnazione Mentre col Var in linea Fa solo una Delle operazioni Cioè fa Praticamente Solo l'assegnazione Ci sono delle differenze Con il manager record Quindi In realtà Poi Sono abituato In C Sharp Poi la cosa Onestamente Comoda È che Se esco da qui Quell'identificatore Lo posso riutilizzare Quindi Diciamo che Il motivo Per cui A volte Lo uso Come parsimonia È perché Scrivo un codice E poi uno dice Ah un problema Lo carico con Delphi 7 Non va E quindi O con Delphi 10.0 Però In questo caso Lo trovo comodo Ci sono anche Delle ottimizzazioni Legate alla memoria Quindi Non è proprio L'equivalente Non sono una cosa Equivalente Secondo me È una buona opportunità Con degli effetti Quindi non è solo Una questione Di stile Di scrittura Poi magari Ci faremo Una live Non so Un'altra cosa Che potrei controllare È ad esempio Se la proprietà È privata Cioè Potrei dire Che If not Ad esempio Lprop Ho questo Visibilità Potrei dire Che se non è In Member visibility Public O Published Passo a quella Successiva Perché non mi sembra Lecita Non mi sembra Lecita Andare a scrivere Una proprietà Che è protected O private Quindi insomma Ci sono un pochino Di Ci sono un pochino Di Come dire Cose Da Da verificare Ma Ovviamente Questo fa parte Della logica Che mi sto Un po' Un po' Inventando Infatti È molto simile A C Sharp Sì Esatto Mi piace Sì La retrocompatibilità È Praticamente È l'unica Al momento Motivazione Che mi frena Perché altrimenti Lo trovo Molto più chiare Anche perché Qui non ho dovuto Scrivere Replicare La dichiarazione Del tipo Ma semplicemente Glielo assegno Mettiamo anche Ad esempio Questa Lprop Non ve la cavate Così Se la mettete Qui in alto Perché dovete Schrivere Che è di tipo Property Mettiamo che un domani Cambio idea E voglia Invece lavorare Sui campi Invece che Sulle proprietà Scrivo così Ovviamente La proprietà Non sarà Writable Ma sul resto Posso anche Non cambiare nulla Se il codice È già compatibile Invece In certi casi Se uso Field Devo andare A scrivere Field Se scrivo Property Devo andare A cambiare Property Cioè Ho un tipo Che se cambio Tipo Devo sempre Andare A aggiornare Il tipo Anche se Il codice Che ho scritto Va bene Cioè C'è ridondanza Con i dizionari Secondo me È proprio La Come dire La morte Sua Quindi Dovete Dichiarare Un tdictionary Piuttosto Che dichiararlo Due volte Quando fate La create La variabile La dichiarata In linea Non dovete Ripetere E quindi La retocompostibilità È effettivamente Un problema Io cerco Di scriverle Così In modo Che convinco La gente A giornarci Quindi La retocompostibilità Mi aiuta A portare Gente Alle versioni Nuove Perché io Gli pianto I programmi Con Adesso Scherzi A parte Però Sì Quello Ovviamente È un problema Perché Mi sembrerebbe Inutile Fare Degli Fdef Per avere Due tipi Di dichiarazioni Però Utilizzando Certi strumenti Manage record Sono Come dire Molto utili E quindi Solo nelle versioni Più recenti Aiuto Ho sbagliato Scusate Ovviamente Sono le versioni Più recenti Si riescono A utilizzare Ci sono Dei contesti Insomma Dipende un po' Da quello Che bisogna fare Come poi Tutte le cose Allora Quindi siamo Arrivati qui Allora Altre precondizioni Non ne metto Perché mi sono Già No Non mi sono Stancato Sto scherzando Siamo arrivati Qui Quindi la proprietà È writeable La visibilità È consona Direi che a questo punto È lecito Andarci a scrivere Quindi il nostro Ident Identificazione Cioè il nostro nome Di Di parametro Da caricare Dal file Possiamo Impostarlo Come uguale Al name Della property Diciamo Quindi A questo punto Prima controlliamo Ovviamente Che sia scrivibile Che abbia la visibilità Giusta Se tutte queste Condizioni Vanno a buon fine Prendiamo il nome Della proprietà E questo diventa Come dire Il nostro Identificativo Quindi rispetto All'implementazione Precedente Abbiamo già Reso dinamico Il tipo Che puoi passare Le proprietà Che può avere Quindi Il tipo Di appartenenza Abbiamo già Reso dinamico Il nome Della sezione Per chi viene preso Dal tipo E il nome Dell'identificatore Per caricare Il setting Dipende Dal nome Della proprietà In automatico Quindi abbiamo Già Fatto Ovviamente Il codice Diventerà Più lungo Però Questo è un codice Che sarà Reutilizzabile Sempre Quindi E tra l'altro Qui Se metto Tutte le condizioni Ad esempio Valore obbligatorio Potrei avere Magari Dei parametri Qui in più Da specificare Che mi dicono Se magari Non so Un dizionario Che mi dice Campi obbligatori Il nome Della proprietà È un flag True False Che se presente Mi dice Che nel momento In cui avrò Caricato il valore Quel valore Sarà obbligatorio E quindi Se non c'è Mi arrabbio Però È una logica Che scrivo Una volta sola Con tutte le casistiche Che voglio gestire E la riutilizzo Un'infinità Di volte Quindi A questo punto Abbiamo due dati In realtà Per caricare Dal file In me Abbiamo diversi Come dire Metodi A seconda Del tipo Dobbiamo A questo punto Capire Qual è Il tipo Da cosa Lo troviamo Dal nostro Prop Abbiamo Da qualche parte Property Type Il tipo Della proprietà E qui Di nuovo Stiamo Ispezionando Quindi Siamo passati Della proprietà Al tipo Della proprietà Quindi Qui ci dirà Se è la proprietà Di tipo String Se è un oggetto Nel caso Dell'oggetto Ci darà Di nuovo I suoi metodi Le sue proprietà Cioè In cascata Stiamo Praticamente Scendendo Dal tipo Della configurazione Al tipo Di una proprietà Di quella configurazione E possiamo Andare avanti All'infinito Qui In realtà Ci basta Solo Type Kind E Ok Questi sono tutti I tipi Di T-value Allora Facciamo che Ne gestiamo Alcuni Perché Ad esempio Intero Il char Potremmo gestire Il float Il float Che c'è La stringa Si Set Class Metodo Ovviamente No V char No L string V string Per me Sono tutti Uguali Linz 64 Linz Facciamo L'array Dinamico MK Record Gestiamo Questi Che so Che Generalmente Nell'ini Dovrebbero Aver Tutti Cioè In realtà Poi Le stringhe Io Le vado A mettere Poi Tutte Assieme Perché Non ho Un altro Metodo Cioè Poi ci Penserà La conversione Del Di Delphi A fare Le sue Operazioni Quindi Ovviamente Qui L'else Per me Sarà Un O un errore Che potrebbe Voler dire Non riesco Convertire Quel tipo Non lo supporto Quindi Mettiamo Che Praticamente Diamo supporto Solo a un certo Tipo Di variabili Per lato Facciamo errore Oppure La saltiamo Qui Decidiamo Noi Ovviamente Siamo noi Che decidiamo Come fare Questa Logica Quindi Nel caso Sia un intero Cosa andremo A fare Andremo Quindi Qui sopra Dovremmo Recuperare Il value Di tipo Di value Perché può Essere Di qualsiasi Tipo Quindi Il valore Della nostra Proprietà Nel caso Dell'intero Il valore Sarà uguale A Inifile Read Integer Quindi abbiamo La nostra Section Abbiamo La nostra L'ident Il valore Il valore Lo mettiamo A zero E questo Finisce Nel nostro T-value Nel caso Del float C'è la Read float No Read float Stessa cosa Mettiamolo così Se Mi sta a indicare Quindi Qui Abbiamo La string Stessa cosa Però Facciamo Read String Quindi Questo Value È un valore Generico Che poi Tirano fuori Il Boolean Ah giusto Il Boolean Penso che Venga Letto Nel T-value Se non ricordo male Come un enumerativo Cioè un enumerativo Con due valori Possibili True E false In effetti Ci potrebbe stare Perché così Penso che Sia un T-cup Enum Quindi Però Possiamo dare Un'occhiata Quindi qui Perché si incazza Ok Perché c'è questo Mi ricordo Che c'è anche Il long Perché l'ho caricato In un contesto Redd64 Poi qui Mi fermo lì Ma potrei Per dire Potrei anche Supportare il char Dicendo In caso di char Prendo Carico una stringa Prendo il primo carattere Oppure lo metto Carattere 0 Se la stringa è vuota O il primo carattere Cioè Io Scelgo come Caricare i valori Poi potrei Come dire Aprirmi Lì ovviamente Poi qui li sto scrivendo Con un Come dire Un case Ma potrei anche Creare una libreria Dove A ogni tipo di dato Corrisponde Un oggetto Che si occupa Della conversione Del caricamento E della restituzione Di un value Per quel tipo E quindi Lasciarlo anche Come dire Espandibile Ad eventuali aggiunte Cioè qua L'appetito Vi è mangiando Se uno ci si vuole divertire Qui ci si diverte Ci può passare anche Non dico delle ore Ma dei mesi Neanche delle giornate Qui cerchiamo Di rimanere un po' Come dire Sull'esemplificativo Senza Complicarla troppo Poi se vogliamo Complicarla Potremmo anche Quindi Siamo arrivati Mi ha trovato il tipo Metto in value Quindi se non È di un tipo Noto Al certo punto Avremo Il property value Cosa facciamo Abbiamo la nostra property Possiamo fare Set value Quindi impostare il valore Su che oggetto Perché noi stiamo Ispezionando il tipo Qui gli stiamo dicendo Che voglio impostare Questa proprietà Su un oggetto L'oggetto è A config Grazie del follow Ben arrivato Luigi Dev Quindi direi Uno sviluppatore Perché underscore Dev Direi che Tradisce È un bene Quindi tradisce Il valore Quello che ci siamo caricati Poc'anzi Quindi Com'è che si arrabbia Cosa vuoi Ah un pointer Ok C'è la vuole così Vabbè Quindi intanto poi Faccia lui Quindi Ok Quindi a questo punto Impostiamo il valore Quindi questo è un po' Il Quindi abbiamo Aperto il file Lini Ci siamo Andati a recuperare Il tipo della classe E il nome della classe Dal nome della classe Abbiamo tolto La T Così abbiamo Un nome più Elegante Quindi da T Smtp Configuration Prendiamo Questo qui Perché nel file Lini poi L'abbiamo chiamata Così E quindi Potremmo Questa è una convenzione Che noi abbiamo messo Diciamo giù Come regola Poi creiamo Poi creiamo il nostro Context Diciamo che qui Un po' Tutto Magari un po' Troppo Ammassato Possiamo anche Fare un po' Di spazi Quindi L'RTTI Context Ci aiuta A esplorare Il tipo Quindi usiamo Il context Per recuperare L'oggetto Che ci dà informazioni Sul tipo Di appartenenza La configurazione Prendiamo le proprietà E le cicliamo Quindi se la proprietà Non è scrivibile La saltiamo Se non è Public Published Quindi Potevamo scrivere Che se non è Se è private O protected Ok È uguale Tra l'altro Penso ci siano Delle costanti Già per questo Per questo Tipo di Questi insiemi Di Di visibilità Da utilizzare Se superiamo Tutte le precondizioni Chiaramente Prop name Su questo ovviamente Potevo magari Anche evitarlo Ma Diciamo che l'ho fatto Perché non so Se questo name Ha un get name Sotto intende Adesso qui È abstract Perché bisogna andare A vedere l'implementazione Dell'oggetto In questo caso Proprio della property Se riesco a beccarlo RTTI Property Dov'è? Qua C'è il get name Da qualche parte Forse no Perché è sotto Member Named object Ma ancora abstract Quindi Da qualche parte Qualcuno L'avrà ben implementato Questo Oppure è astratto Finché Hola Si Cioè Comunque Ho dato per scontato Che magari Questo Recupero del name Faccia delle operazioni Con la reflection Quindi sia più lento Per cui A un certo punto Essendo che viene usato In più punti E' anche vero Che poi viene usato Una volta sola Quindi Potremmo anche Vabbè Va bene così Quindi Diciamo che questo è il nome Del mio setting Dichiaro una variabile Per il value A seconda del tipo Della proprietà Vado a chiamare Il metodo specifico Sul fileini Altrimenti Passa a quella successiva E alla fine Arrivato in fondo Se arrivo fin qui Imposto Da proprietà Quindi Cosa Cosa potremmo Cosa potremmo fare Adesso vediamo Se funziona Quindi Abbiamo fatto La versione Generica Quindi si lancia Il mio programma Allo stato attuale Quello che otteniamo E' L'oggetto vuoto E poi lo troviamo Riempito Con la versione Vintage Che si Come dire Sarà molto leggibile Ma dobbiamo fare Copia e colla Quindi questa Più complessa Ma Io l'andrei poi A semplificare Dividendo ovviamente Il parsing Dei valori Cioè Ci sarebbe Come dire Da lavorarci un po' su Al posto Di questa Vintage Usiamo La T Configuration Provider Modern Vedete che qui Lui mi chiede Lui ha un metodo Com'è che l'abbiamo chiamato LoadTo Qualcosa LoadInto Ok Che consente Di caricare Da un path Un oggetto Dobbiamo indicare qui Qual è l'oggetto Con cui vogliamo Lavorare Ad esempio Se utilizzeremo Questa classe Mettendo al post Di Tconfig SMTP Configuration La LoadInto Accetterà un path E una config Di tipo TSMTP Configuration Quindi Nel momento in cui Utilizziamo Il nome è veramente Lungo Quindi Utilizziamo La nostra Classe Possiamo Indicare Qual è il tipo A cui facciamo Diferimento Ma nulla ci vieta Di andare A caricare Un Tobject Funziona Perché questo è un oggetto E quindi Tra l'altro Funzionerebbe Lo stesso Quindi Perché Noi andiamo a vedere Di che tipo è Poi Il parametro Che passiamo E quindi Il Tconfig Nel momento in cui Viene Indicato Viene sostituito In tutti i punti Come un placeholder Quindi Però Il vantaggio Che possiamo avere Vari oggetti Di configurazione E una logica Che funziona Per tutti Tanto Vediamo Se funziona Quindi Lanciamo di nuovo Il programma Mi aspetto Che faccia Esattamente Quello che faceva Prima Al net di Porcate Che potrei Aver fatto Funziona Troppo bene Il cammy Desta Sospetti Però Mettiamo Breakpoint E andiamo A controllare Quindi Facciamo F7 Quindi Apriamo Il file Lini Class Type Quindi abbiamo Il nostro T class Abbiamo Il class Name Quindi Questo diventa T smtp Configuration Inizia Per T Togliamo La T Così L'abbiamo Come dire Normalizzato Creiamo L'RTTI Context E cicliamo Le proprietà Quindi La prima Property Se andiamo A vedere Non ci fa Vedere Molto Qui Perché Dobbiamo Esplorare Magari L'RTTI Object Is Writable True La visibilità È public Prop Name È host Quindi stiamo Parlando Di host Diventa L'identificatore Che Tipo Di valore Ha Una U String C'è una String Unicode Quindi Entriamo In questa Casistica Quindi Carichiamo Da questa Sezione Il valore Di host Con Stringa Vuota Come Default Siccome Siamo arrivati Qui Vedete che Abbiamo L'oggetto Config Che è ancora La porta A zero La password Vuota L'host Vuota Username Vuoto Andiamo A caricare Il value Che abbiamo Tirato su Non so Se si riesce A vedere Da qualche Parte Sarà Dove C'è La string Comunque Adesso Lo vediamo Nella Property Si Andate A caricare L'host Smtp Aruba .it Dopodiché Si procede Con la proprietà Successiva Che è un intero Sarà La porta Immagino Si perché Le altre Sono tutte String Quindi Andiamo Di string 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 E alla fine Quando usciamo Chiudiamo Il file Ini E qui dentro Abbiamo però Tutti I nostri Valori Stampati Caricati E quindi Li vediamo Qual è il vantaggio Di questa cosa Devo caricare Un setting In più Vado qui E gli dico Non so Property Timeout Di tipo Mettiamo anche In campo Lit 64 Scriviamo Una cosa Del genere Ctrl Shift C Abbiamo il nostro Campo Di storage Questo è un tipo Supportato A parte che funzionerebbe Comunque Perché abbiamo Un default Quindi già Solo Aggiungendolo E andiamo Aggiungere qui Timeout Uguale Percentuale D F Timeout Ok Quindi se adesso Lanciamo il programma Dovremmo già Vedere comunque A zero Esatto Perché La proprietà Viene vista Adesso Non so Se ci passa Ma indicativamente Per come è fatto Direi che ci passa Ma Carica da lì Con default A zero Lì non c'è niente Però se andiamo Ad aggiungere Timeout E qui ci scriviamo 99999 E lo salviamo Se faccio un build Questo fileini Viene copiato Nella cartella Dell'eseguibile E se lo lanciamo Mi aspetto che C'è il breakpoint Ok Eccolo qua Parte da zero Adesso ha il valore Del fileini Voglio caricare Tutto l'altro tipo Di configurazione Ripeto Solo La classe T Login Configuration Metto Le mie proprietà Public Metto Property Login Domain Di tipo String Tra l'altro Se scrivo così Mi fa da solo I I campi Ma Vediamo No Ho fatto i metodi Ma Viene lo stesso Ma anzi Lasciamo lì Quei metodi Quindi ho fatto La mia La mia La mia proprietà Con i setting Ci aggiungo Un toString Ma solo Per avere Una rappresentazione Come dire Da vedere Nella console Quindi non è che Poi ci serva Normalmente Non lo vedrei Login Non so come scriverla Scriviamo così Login Domain Uguale String User Name Uguale Percentuale String E poi ci mettiamo Domain Username Nella formattazione Abbiamo fatto il nostro tipo Mi aspetto di non dover Qui vado A Come dire L Login Di tipo T Login Configuration Create Alla fine Lo distruggo Login Free Ok E poi cosa facciamo Configuration Provider Modern Vi dico Cariccami La login Configuration Dal Path Questo qui In L Login Quindi Riutilizzo La logica Che ho già scritto Per Brightline Forse è meglio Farlo Prima di distruggere L'oggetto Se no Potrebbero essere Dolori Io lo faccio Stampare Volendo anche Prima e dopo Così Siamo più tranquilli Lancio Vediamo Che succede Non ha caricato Nulla Perché nel file Non c'è niente Giustamente Quindi L'abbiamo chiamata Com'è che l'abbiamo chiamata Login Configuration Quindi Nel file Tolgo Questo Metto Domain Uguale Delphi Username Uguale Embarcadero Username Uguale Delphi E mi aspetto Di vedere Questa roba Qui Caricata Ok Stavolta È andato Parte vuoto E poi ci troviamo I valori Quindi Il caricamento Viene fatto Usando la stessa classe Che abbiamo utilizzato Per l'altro tipo Di oggetto Perché Se lo utilizzate Per un oggetto E funziona A meno che Ovviamente Non abbiamo Messo un bug Funzionerà Anche per tutti Gli altri E quindi È codice Che Perché sai Magari Magari Chi è abituato Cioè Se siamo abituati A farlo così Ecco che A un certo punto Nel copy Incolla Ci scordiamo Magari Di incollare L'identificatore Qui Oppure Lo carichiamo Come stringa Ma ci siamo Scordati Che in realtà Vabbè Quello Non succede Perché C'è da mettere Il default Però Magari Un intero Oppure Ci sono delle cose Da fare Cioè Il copy Incolla È sempre Pericoloso Noi abbiamo Creato una logica Che potremmo Anche mettere Sotto testa Potremmo Esercitare Nel modo Più Nel modo Che preferiamo Per far sì Che Una volta Che sappiamo Che si adatta A Un certo Range Di scenari Quindi qui So che Ad esempio Il booleano Non l'ho gestito Però Vabbè Una volta Che l'ho introdotto Potrei Testarlo Come provider Magari Separato Vedere Come converte I valori Introdurlo A quel punto Io Se so Che ha funzionato E funziona Continuerà a funzionare Sempre Perché io Non sono andato Sono andato Aggiungere Un entity Sono andato Aggiungere I parametri Relativi Nel file Lini Sono andato Aggiungere Il caricamento Ma non ho scritto Non sono andato A cambiare La logica Del load Into Perché Come è stata Implementata Mi aspetto Che funzioni Allo stesso Modo In entrambi I casi Quindi Fino a qui RTTI L'accesso Quindi Un po' più lento Però come vedete È impercettibile Non facciamo Un ciclo Di migliaia Di Componenti Migliaia di volte Per migliaia di proprietà Allora a quel punto Potremmo Parlare di prestazioni Ma carichiamo Una configurazione Quindi Supponiamo Che provenga Da DB Cioè Non La Come dire La differenza In termini di prestazioni È impercettibile Perché per l'uso Che ne facciamo Non riusciamo Praticamente Neanche a misurarlo Quindi Anche perché Poi i programmi Compilati con Delphi Sono Sono veloci Quindi Come dire Questo è anche Un po' il vantaggio Per cui Reflection O Reflection Nel caso Ad esempio Di .NET La Reflection È un servizio Che dà Il runtime Il CLR Quindi Come dire Ogni volta Che si va a vedere Fammi vedere In quella DLL Che tipi ci sono Che metodi hanno In realtà Sono richieste Che vengono fatte Il runtime Il runtime Prima dice Ok aspetta Vediamo Vediamo Se puoi Se non puoi Ci sono tutta una serie Di vantaggi Perché avere un runtime Vuol dire Un runtime Cioè dare codice In pasto A qualcuno Che lo esegue Vuol dire Che ovviamente Questo si può Metter in mezzo E fare tutte le considerazioni Che preferisci In termini Di Di sicurezza Però Ovviamente C'è un Un indirezione Che un minimo Di Di latenza Ce lo può dare Un'ultima cosa Sempre per far vedere Quanto poi Può diventare interessante La questione In realtà Avrei Preferito applicare Uno scenario Ma Lo vado Supponiamo Che Voglio caricare Un qualcosa Che Non so Per esigenze Magari Gli oggetti Esistono già Io ho una proprietà Domain Username Ok Facciamo l'esempio Della Password Aggiungo qui Un campo Password Ma solo Perché Però Io so Che Adesso Mettere il campo So Che Questo campo In realtà Non si chiama Password Nel file Lini Ma ha un altro Nome Perché qui Adesso Il gioco Funziona Che Nel file Nini Uso Lo stesso Nome Della proprietà Ovviamente Le questioni Match Matchano Però Oppure Non so Quello che voglio Andare a caricare Perché Non voglio Fare un esempio Troppo Lungo Da scrivere Per Fare Vedere il concetto Però Diciamo che qui Il nome è diverso Per qualche motivo Questo è un file Generato Da Da un altro Software Che invece che Scrivere Password Scrive PVD E io Siccome Sono Fanatico Del Clean Code Io PVD Nel mio Programma Non lo Scrivo Perché Ovvio Che Significa Password Ma potrebbe Anche Essere Power Io voglio Scrivere Password A questo punto Saremmo fregati Perché Non possiamo Più Utilizzare La nostra Implementazione In quanto Come dire Abbiamo Un caso Che esce Dal In realtà Noi potremmo Anche Considerare Il fatto Che Innanzitutto Il nostro Metodo Di caricamento Configurazione Possiamo Passare Altri parametri Potremmo Dire Ti passo Un dizionario Dove Nel nome Delle proprietà Trovi Un Aglias Ad esempio Un dizionario Dove Scriviamo Proprietà Password Dentro Un valore PVD Associato Che Gli sta Indicare Che Quando Lui Cerca Cioè Se Cerca La proprietà Password Ed è nel Dizionario Deve utilizzare Il nome Che io Gli ho Passato Come Alternativa Come Aglias E questo Potrebbe Essere Un'idea Ma In realtà Io potrei Anche Ad esempio Andare a Customizzare A voler dire Voglio customizzare Il valore Di default Voglio Customizzare Il fatto Che quando Carico Qui dentro Magari Il valore Non è scritto Così Ma è scritto In un modo E va decodificato Ma non voglio Quindi Di nuovo Usare la mia classe Per caricare I valori Poi Ogni volta Che codificato Gestire La codifica A parte Voglio Che il mio Motore Integri Questa Capacità Ad esempio Di caricare Qualcosa Che ha Un nome Diverso O definire Un default Nell'RTTI Abbiamo Uno strumento Che sono Che sono Gli attributi Cosa Sono Gli attributi In realtà Sono Delle Degli Oggetti Come Dire Comuni Nel senso Che non Sono Altro Che degli oggetti Che hanno L'unica particolarità Che hanno E che possono essere Associati A dei tipi E a dei membri Dei tipi Quindi ad esempio Proprietà Metodi E quant'altro E nel momento In cui Li associamo Quell'oggetto Viene creato E salvato E salvato In memoria Ed è Ovviamente Accessibile E leggibile Tra virgolette Con Le funzioni Delle RTTI Quindi ad esempio Vogliamo Abbiamo un setting Che ha un nome Diverso Noi A questo punto Stabiliamo La regola Che Il fatto che Il nome sia uguale È un default Ma creiamo Una strada Per poter Deviare Ovviamente Dal default L'ideale Sarebbe Poter decorare Come si vuol dire Cioè poter Andare qui E dirgli A questa proprietà In questa posizione Andare a segnalare A quello che Va a caricare I setting Che questo Si chiama password Ma lui deve cercare PVD Al post Di Del nome Della proprietà Standard Quindi dove Io non dico niente Vale la convenzione Quindi Convention Overconfiguration Che è il nome Che si adotta Per queste casistiche È uno strumento Molto potente Tipo L'architettura MVC Di Ruby on Rails O di SPNet MVC Si basa tutto Sul fatto che Ci sono alcune cose Che vengono impostate Con nomi Impostazioni Locazioni Predefiniti Io volendo Posso cambiare tutto Ma se non dico niente Ho una strada Maestra Però volendo Posso intervenire Su qualsiasi Cioè variare Qualsiasi Impostazione Di default È chiaro che Per tutti quelli Che non hanno bisogno Di Come dire Deviare Meglio non farlo E in questo modo Si semplifica Però Non mi chiude la strada A gestire Eventuali casi Particolari Quindi come lo facciamo Con gli attributi Noi dovremmo andare A creare un attributo Che ci consenta Di Definire un nome Alternativo Per il nostro setting Quindi andare là Dove c'è scritto Password Lasciare Password Ma scriverci Sopra Che quello Va letto Come Pwd Quindi Cosa possiamo Fare Importiamo Le nostre Solite Unit Quindi Typeinfo RTTI In realtà Non mi ricordo Se sono Poi Definiti Qui dentro Allora Qui scriviamo Reflection Attributes Così Gli diamo Anche un nome Potremmo Chiamarlo T Ident Attribute Qualcosa del genere Magari Spero di non aver beccato Qualcosa Che c'è già Ecco La particolarità Degli attributi E che devono Ovviamente Ereditare Da Da una classe Che è T Attribute Se non ricordo male T Attribute Non lo vedo Quindi probabilmente O in System Classes O Facciamocelo Cercare Come non detto Vero che poi Posso anche Andarmelo a cercare Per conto mio Reflection Reflection Viewer Attribute È roba documentata E quindi La trovate Trovate A parte che Qui stiamo solo Scalfendo Cioè La superficie Dell'RTTI È solo Giusto per dire T Custom Attribute Sì Adesso Devo cercare un esempio Perché non mi ricordo Un Proprio Una Una Fava Di come Attribute RTTI Sample Chi sa dove Mi starà buttando Ok Però Not found Ovviamente Quindi Magari C'è qui No Come non detto Adesso andiamo a cercarlo Direttamente Qui Ah ma non sono Una documentazione No L'abbiamo trovato L'abbiamo trovato My demo Attribute Andrebbe però Scaricato Mi vado Me lo vado a pescare Da github Perché non mi ricordo Sembra lento Ma in realtà Che io sto occupando Tutta la banda Del E quindi E per quello Che Ok Comunque T Intanto Custom Attribute E Tra l'altro Non dovrebbe essere Qualcosa qua Custom Attribute Però questo Mi riapre La stessa pagina Attribute RTT Ora Forse Abbiamo trovato Qualcosa No Declaring Custom Attribute Oh Finalmente ho trovato Quello che stavo cercando Un cacchio di esempio Ehm Allora In questo caso Vediamo Se è arrivato Se è arrivato Anche qui Se no Vado a vedere Il sorgente Di Di Iorm Ci saranno Una marea Di attributi Allora Adesso Cerco Maurizio Del Magno Quindi Così Vediamo Sotto Source Attribute Così vediamo Come è stato Utilizzato Vediamo Vediamo Come può essere Dichiarato Qui c'è Questa È L'RM di Maurizio Del Magno Che fa Pesante Utilizzo Di questi attributi Ma perché sono In realtà Sono Fantastici Dal punto di vista Come utilizzo Qui ci sono Un po' Di attributi Custom String Attribute Quindi C'è un costruttore Per cui Io Direi che Questa Implementazione È proprio Quella che Me la copio Proprio di peso Bello dell'open source Quindi Come è fatto Allora abbiamo La classe Qui vabbè C'è un prefisso Ovviamente Del framework Qui la chiamiamo Ident attribute Cioè L'identificativo Dei nostri Setting Deve derivare Da custom attribute Ci mettiamo Una Proprietà Che sarà Ident Cioè L'identificativo Da cercare Al posto Del nome Della proprietà Quindi stiamo creando Qualcosa Che ci consente Di indicare La famosa alternativa E c'è una proprietà Che restituirà Il valore Di un campo Privato Che contiene Questo valore E dobbiamo mettere Anche Un costruttore Che prenda Questo Identificativo Dall'esterno E lo vada A salvare All'interno Del campo Poi vedremo Quindi Il valore Viene passato Dal costruttore E poi E' possibile Leggerlo Dalla proprietà Facciamo Control Shift C Quindi Grazie a IORM Che In una live Faremo Prima o poi Appena Riuscirò La organizzeremo Una bella live Di esplorazione Per la serie Discovery Allora qui Abbiamo Inedited Create E poi Ci salviamo Il valore Di questa Stringa A Ident Che viene Passata Ok Facendo Questa cosa Che cosa Possiamo fare A questo punto Possiamo utilizzare Qui c'era un esempio Comunque Vabbè Analogo Però Possiamo utilizzare In questo modo Andare Sul nostro Dov'è La nostra Entity Qui Quindi Importare La unit Degli attributi Quindi abbiamo Importato La unit E utilizzarlo Direttamente Nella dichiarazione Del nostro Della proprietà Ovvero Qui abbiamo La proprietà Appena sopra Mettiamo Due parentesi Quadre Mettiamo Il nome Dell Della Tributo Questo T Dent Generalmente Conviene Scriverli Si Senza Il T Effettivamente Vabbè Insomma Questo è un po' Un Questione Di Formalità Quindi Vabbè Seguirò Quindi Qui lo possiamo Scrivere Praticamente Possiamo scrivere Ident Attribute Oppure Solo Ident E Tra parentesi Dobbiamo passare I parametri Del costruttore In questo caso Quindi Passeremo Il valore Dell'identificativo Da salvare Dentro Il campo Mi sono perso Qua Quindi Scriveremo Pvd Ovvero L'identificativo Con cui ci aspettiamo Di trovarlo Sul file Lini In poche parole Cosa abbiamo fatto Abbiamo creato Un oggetto Una classe Un object Con un costruttore Che prende Una stringa E se la salva Quando noi Facciamo un build Quando viene caricato Questo modulo Questo tipo Da runtime Cioè Dentro a un certo punto Caricherà la unit E tirerà dentro i tipi Andrà a completare Le informazioni Che sono poi Quelle che noi Spezioniamo Con l'RTTI Andrà a riempire Cioè andrà a riempire Una tabella dati Dicendo C'è questo tipo Si chiama così Il suo path È Reflection Entities Tlogin Configuration Ha queste proprietà Di questo tipo Sulla proprietà Andrà a creare Un oggetto Il nostro identità Attribute Passando di questo valore Quindi noi Potremo con l'RTTI Andare sulla proprietà E vedere se ci sono Di attributi impostati Quindi l'attributo Di sé Non fa nulla È solo un veicolo Per un'informazione Quindi adesso Se noi compiliamo Ok Io Password L'ho aggiunta L'ho messa Con questo identificativo Ma se lancio La mia applicazione Vado ad aggiungere Vado ad aggiungere L'informazione All'insieme Dei valori Che stampo Quindi password Scritto così E qui ci aggiungo Anche password Ma mi aspetto Di trovarla vuota È sempre vuota Tra l'altro Quindi domain username Password partono vuote Carica domain username Password non la carica Perché sta cercando Password All'interno del file Quello che gli devo dire È Controlla prima Se c'è un attributo Che va a cambiare L'identificatore Cioè password Nel nostro default Ma noi possiamo Utilizzare L'RTTI Per andare Quindi una volta Che siamo arrivati qui Abbiamo preso Il nome della proprietà E abbiamo Lo usiamo come identificatore Non siamo ancora contenti Dobbiamo Tramite appunto La nostra property Accedere a un metodo Che si chiama GetAttribute E qui potremmo anche Recuperare un attributo Che già appartiene A una classe Di un certo tipo Quindi l'RTTI Ci viene Un po' in aiuto Ad esempio Potremmo chiedergli Intanto importiamo La unit Con l'attributo Di cercare Un attributo Che appartenga A questo tipo Quindi GetAttribute Ci restituisce Ci restituisce Un custom attribute Cioè la classe base Degli attributi Se è presente Un attributo Di questo tipo Quindi In poche parole Cosa potremmo fare Potremmo dire Ident attribute Andiamo a cercare L'attributo Di questo tipo Se Il valore Cioè abbiamo trovato Questo attributo Cosa facciamo Andiamo Sull'ident Il nostro Identificatore Cosa sarà Il nostro attributo Lo prendiamo Lo castiamo In modo da poter Accedere alla proprietà Che gli abbiamo Aggiunto Quindi Qui gli diamo Il tipo Dell'attributo Ossia il nostro attributo Se esiste Un attributo Di questo tipo Ce lo restituisce Come custom attribute C'è volendo Anche la versione Col generics Get attribute Ah si Perfetto Così Ancora meglio Potete usare La versione Col generic Se fa quello Che mi aspetto Perché non vorrei Quindi Cercate L'attribute Che ha questo tipo E se Lo trova Ve lo restituisce Tra l'altro Ve lo dovrebbe restituire Già tipizzato Di tipo Ident attribute Quindi semplicemente Quello che andrete a fare E questo Cioè Va praticamente A caricare A runtime A vedere se sono Degli attributi Di questo tipo Vi da Il primo che trova In questo caso Se quindi Abbiamo un attributo Il nostro Identificatore Che era Inizialmente Partiva Con il nome Della property Diventerà Uguale A quello Che noi abbiamo Specificato Come Parametro Al costruttore Dell'oggetto Che è il nostro attributo E che il programma Si è caricato Quindi Nel momento in cui Il programma parte Carica questa entity Va a creare un'istanza Del nostro attributo E l'associa Alla proprietà Password Passando questo valore Il costruttore Che finisce Nel ident A runtime Noi possiamo Data quella proprietà Cercare degli attributi Quindi questo ci darà Un nil Per la maggior parte Delle proprietà Quando arriveremo A password Ci darà L'attributo Perché effettivamente Quell'oggetto È stato creato E valorizzato E qui dentro Ci troveremo Il valore Che noi poi Abbiamo specificato In questa sede Quindi stiamo Integrando Come dire Delle Stiamo creando Delle variazioni Nella nostra logica Però configurabili E in maniera anche Piuttosto elegante E dichiarativa Soprattutto Quindi Non devo prevedere Parametri in più qui Devo solo prevedere Un set di attributi Ad esempio Potrei definire Un attributo Potrei Mettere questi default In una variabile In un t-value E definire un attributo Che ci fa Come dire Impostare Il default Da assegnare Alla proprietà Se il valore Non c'è nel file Quindi Potremmo intervenire Su questo meccanismo Introduce Delle variazioni Qualora Il default Ovviamente Il default Inteso come Comportamenti default Non sia quello Che Che ci aspettiamo Che ci aspettiamo Se mettiamo Breakpoint E proviamo A testare Questo codice Stiamo caricando Al momento Stiamo caricando Il Come si chiama Qui L'asmtp configuration Quindi Non troveremo Probabilmente Attributi Di questo tipo Quindi L'identificatore Rimarrà Host In questo caso Come rimarrà Port Ovviamente Terrà sempre Il valore Di default A un certo punto Caricheremo Qui siamo ancora Timeout Siamo finiti Sulla login info Stiamo caricando Domain Quindi Domain Non ha attributi Vado avanti Qui Adesso Siamo Su username Siamo Su password Quindi Ident password Non è corretto Perché nel Filino Lo troviamo Lui cerca L'attributo Questa volta Lo ha trovato Perché l'oggetto C'è E l'oggetto È il campo Idente Con il valore Che noi abbiamo Messo nel costruttore Quindi Essendo assegnato Idente Diventa Quello che Diciamo noi E quindi Abbiamo variato Il default Quindi Il nome della proprietà Ci sta bene Nella maggior parte Dei casi Perché qui Abbiamo usato Non abbiamo fatto Nessuna distinzione Ma qualora Ci Come dire Ci Ci Interessi Variare Dallo standard Possiamo usare L'attributo A questo scopo E stavolta Il valore È venuto fuori Prima non c'era Adesso è venuto fuori Perché è andato a cercarlo Come PVD Quindi pensate Magari un attributo Che dice Che il campo Ad esempio È obbligatorio Quindi Non so Magari una stringa Mettiamo Required Se carichiamo Una stringa Ed è una stringa Vuota Possiamo Segnalarla Con un'eccezione Configuration error Il parametro È una stringa È una stringa Non impostata Eccetera Eccetera Quindi Possiamo anche essere Molto Molto Descrittivi Sul tipo Di feedback Che diamo Generalmente Non lo siamo Perché Questa logica Qui Quante volte La scriviamo 20 milioni Di volte Nei nostri programmi Senza pensare A come poterla Fattorizzare In modo da renderla Come dire Dinamica Flessibile Cioè Aggiungendo Qualche attributo Qui potremmo Cioè Seriamente Andare a mettere A fare una piccola Libreria Che Da Da Failini Praticamente Ci fa Una sorta di Serializzazione Perché stiamo Di fatto Serializzando Qui non stiamo Facendo Nient'altro Ci permette Magari Di serializzare Valori Potremmo Fare una piccola Libreria Che dato Un oggetto Lo passiamo A un Validator Il validator Non fa Nient'altro Che analizzare Le proprietà E guardando Gli attributi Che ci sono Magari C'è un attributo Required E se lo trova Una stringa vuota Ci dà un errore Se trova Un valore Che indichiamo Come range Da 1 a 100 Lo trova 0 A 200 Si arrabbia Ci dà un errore L'errore Magari È molto dettagliato Però Come dire È un effort Che noi Utilizziamo Una volta Sola Per andare A creare Questa Logica Perché sappiamo Che più Aperta la facciamo Più dinamica La facciamo E come dire Più sono i casi In cui la potremo Riutilizzare Più la utilizziamo E più diventa E la correggiamo E la fixiamo Ovviamente Più diventa robusta Ma se evitiamo Di replicarla Con un copia e incolla Con un template Che andiamo Ogni volta A variare Evitiamo magari Di ripetere Ogni volta Gli stessi errori E abbiamo A questo punto Un codice Robusto Che fa un sacco Di cose In un sacco Di scenari Differenti Poi ovviamente La bravura Oppure Più che la bravura Diciamo Il gioco Perché diventa Un gioco Sta nel Rimanere Il più generico Possibile O nell'abbracciare La maggior La maggior parte Dei casi Che ci vengono In mente Però se Ipotizziamo Di fare Una Una libreria Tipo Open source Raccogliendo Anche dei feedback Non ci vieta Di Raggiungere Come dire Dei risultati Molto Soddisfacenti Quindi di creare Sfruttare L'RTTI Per fare Delle Elaborazioni Molto potenti Come Ad appunto Addirittura Uno RAM Qui ci sono Diversi Attributi Per Indicare Delle classi Indicare Delle Delle Foreign Key Ci sono Questo Fa un uso Pesante Altri Usi Esempi Di attributi Li trovate Ad esempio Nel package Dopo Scontato Ad esempio Delphineon Per serializzare Per serializzare In json Forse Sono stato Un po' Generico Sono stato Un po' Strict All Github Anche Una serializzazione Mi aspetto Che qui dentro C'è stato Fatto Un Cioè La prima unit Sono Gli attributi Non so Perché magari Dovete Trasferire In un json Il valore Di un Enumerativo Normalmente Trasferite L'intero Ma se volete Il descrittivo Mettete un attributo E gli dite Mettilo come Testo Cioè Testo Del Numerativo Per sapere Ovviamente Qual è il testo C'è l'RTTI Che del numerativo Ci restituisce I valori Come nomi I valori Come valori Effettivi Interi Quindi l'RTTI Ci dà tutti Questi dati Magari Non tutte le proprietà Le voglio mettere Nel json Ecco che c'è Un Ignora Attribute Che semplicemente Messo sulla classe Fa sì che questo framework Non vi metta Nel file json Quella proprietà Che ha quell'attributo Quindi l'attributo È solo Il segnalino Cioè Questo addirittura È vuoto Non ha nulla Perché Il gioco Lo fa Come dire Il serializzatore Che prima di Prendere una proprietà Dice ok Partiamo dal tuo tipo E dal tuo nome Se io metto Un attributo Dove cambio il nome Ne userà uno diverso Se metti ignore Salterà e passerà Successivo Quindi farà Tutta una serie di Assunzioni Di verifiche Di controlli A seconda di Come dire Quali sono gli attributi Che sono impostati Quindi gli attributi Servono per farci Decorare tutte le Le classi Tipi di dati E qualcuno Ovviamente Ti andrà a ispezionare Tramite RTTI Per vedere Come deve comportarsi A seguito di un Qui negli esempi Non c'è un Beh c'è questo Configuration Dove c'è Visibility Questi sono Li abbiamo visti Prima Delle RTTI Sono i I flag E le numerativo Con la visibilità Dei vari Dei vari metodi Questo farà Ovviamente Pesante uso Delle RTTI Perché è un Transforming JSON Qualsiasi oggetto Quindi Non può Basarsi sul vostro Oggetto Che neanche conosce Un altro Dove potete usarlo È sicuramente Mars O anche NBC Anche in Mars Avete delle risorse Avete degli oggetti Se li volete Restituire Tramite REST In formato JSON Anche qui Non so Se sono in una Unita parte Avrete Fiorfiori Di attributi Di solito C'è questo Come dire Si fa Ogni libreria Si fa un po' Una classe Come dire Fa da cappello Cioè che Eredita direttamente Da custom attribute E crea una gerarchia Poi Qui c'è il Path attribute Che per ogni azione Dice qual è il percorso A cui Quel metodo Deve rispondere Quando fate una chiamata Che ti tipi Quale comando Quindi Method attribute Se lo mettete Sul vostro Metodo Questo dice Se deve rispondere A una get A una post Ipotizzo Poi forse Non so se è questo Ma penso di sì Get attribute Perché questa è la classe base Poi dopo ci sono I get Post Put Quindi tutte queste Che inserite Nelle vostre Nella vostra classe Nella vostra resource Di mars Per chi usa Mars Vanno a dire Il framework Che quando arriva Un comando Un certo path HTTP Se è un get Va a cercare Il metodo Con questo attributo E lo esegue Se è una post Cerca il metodo Con questo attributo E lo esegue E quindi Questo guida Il framework A cercare Il metodo Della vostra classe Da chiamare Che restituisce Dati Da serializzare In questo caso In formato JSON Perché fa Dell'API E quindi Costruisce Dell'API Ne troverete Sicuramente In DMVC Ne troverete In In un sacco Di librerie Cioè L'RTTI È molto potente Quindi Cioè Molto potente Diciamo che Il fatto di poter Ispezionare Tipi Runtime Apre Delle possibilità Per poter fare Ovviamente Scrivere Delle librerie Che si adattano A una gamma Ancora più ampia Di Di scenari Di utilizzo Quindi Senza quella Non Non sarebbero Possibili Perché ovviamente Usiamo le librerie Ma ognuno Ha i propri Tipi di dati Le proprie Entità Le proprie Strutture Di tabella Ad esempio Nel caso Di ORM E quindi La libreria Deve per forza Prescindere O crea Dei discendenti Cioè Fornisce Delle classi base Dove serve Ma in certi casi Che è un po' L'esperiente Che si utilizzava Prima Di avere Una RTTI Avanzata Quello che si usava E dire Vuoi serializzare Il tuo oggetto E redditi Da questa classe Cioè Creavi Una radice comune Però questo Ovviamente Era una Era una limitazione Perché ci si legava Molto a filo doppio Con Quella che era una libreria E la sua implementazione Mentre in questo caso Se voglio salvare In JSON Un mio oggetto Un mio oggetto Non deve ereditare Da nulla di particolare Ma la libreria È in grado di Tradurlo E capirlo E farsi guidare Poi dagli attributi Quindi Però è chiaro Che è molto più Facilmente sostituibile E intuibile Usare gli attributi Che non Ereditare delle classi Chiamare dei metodi O comunque Basarsi In quel caso Su un'implementazione Questo ovviamente È solo la superficie Perché andando Poi a vedere Tutti i contesti In cui Si può utilizzare Può essere Non so Aspetto orientale Programming Potreste avere Gli attributi Su dei metodi E avere Una libreria Che magari Li va a invocare Eseguendo Prima e dopo Del codice Per fare dei log Cioè Ci sono un sacco Di possibilità Noi qui abbiamo Visto un esempio Molto semplice Per dare l'idea Intanto di come si usa Ma avete visto Che è banalissimo Perché creato Quell'RTTI Context Da lì poi Ovviamente Ci sono Abbiamo visto Delle property Però avete Field Avete i metodi Ai metodi Potete passare Un descrittore Dei parametri E i valori Dei parametri Per invocarlo Dinamicamente Quindi Cioè Con l'RTTI Si può fare Praticamente tutto Poi Se ci saranno Degli esempi Ulteriori Da vedere Che possono essere Più interessanti Si può Ovviamente Come dire Andare a vedere Magari Creare Degli altri esempi Però Giusto per capire Un po' Quali sono le cose Che si possono fare Secondo me Quello della Configurazione O della serviziazione Generale È l'esempio Più immediato Poi da lì O della validazione Poi da lì Si può ovviamente Partire Spaziare Con un sacco Di Di altri Di altri Scenari Wow Ok Siamo quasi Quasi Mezzanotte Non è il 31 Non stampiamo Non sono spumante Però Spero Comunque Che Chiaramente Se ci sono Dei dubbi O qualcosa Che magari Può far piacere Sapere Così Se sono tanti Magari Li vediamo In una Live Separata Se no Comunque C'è sempre Il gruppo Facebook Se ne vuole Riparlare Secondo me Partita Questa musica Secondo me La cosa Più interessante Ovviamente Sperimentare Un pochino Vedere un po' Come Come funziona Magari Andarvi a vedere Come sono state Utilizzate In In certe Librerie Che usano E' stato fatto Come abbiamo visto In questo momento E da lì Magari Prendere Idea Per fare Magari Una libreria Che fa Qualcos'altro Sfruttando Ovviamente Il fatto Di poter Ispezionare Qualsiasi Tipo A design Time E vedere Quindi Lavorare Praticamente Con qualsiasi Struttura Dati Non so In quanti Siamo ancora Collegati E qui Vedo Un po' Di Mi dice Sette In teoria Ma Vedo che ci sono Diciamo che In topic Non c'è Nessuno Niente Guardavo se c'era Qualc'altro Sviluppatore Che si stava Divertendo O meno Molto gaming In questo caso E quindi Telegram Instagram Niente Di Però c'è Un No c'è Una persona A cui potremmo In realtà Fare un ride Che tra l'altro Si occupa di Si occupava di Sviluppo Presso Google E quindi È un canale Che fa delle live Abbastanza interessanti Io ogni tanto Guardo Qualche reprei Quindi Un italiano Un ingegnere software Che ha lavorato Per Google Per più di sette anni E quindi C'è un canale Che si chiama Retire in progress Quindi ritiro In corso Abbreviato RIP Che non è Che sembra Un'altra cosa Però Quindi direi Che potremmo Fare un ride Così magari Siccome è live Da un Da un'occhiata E magari potrebbe Trattare degli argomenti Che Che vi interessano Quindi non scollegatevi Immediatamente Magari Facciamo un saluto E poi Ce ne andiamo Direi A nanna Ce lo siamo meritati Con la reflection E poi ci Ci vediamo Diciamo Alla prossima live Adesso quando Penserò un po' A cosa A cosa portare C'ho un po' Di idee Però vorrei un attimo Cambiare magari Il giorno Così pianificazione Vediamo Se avvicino Un periodo Un po' intenso E quindi vedremo Un pochino Che cosa Che cosa fare Niente Non mi resta Che Salutarvi Adesso preparo Il raidone Così Secondo me È un canale Che potrebbe Interessarvi Quindi Io Magari lo seguirei Perché Spesso fa coding In python Anche Che è un'altra cosa Che mi piacerebbe Portare Legata anche A delfi Quindi Potrebbe Essere interessante Niente Grazie Per Per essere Stati Collegati Spero Che sia Stato Utile Io Lancio Intanto Il raid E do A questo punto Appuntamento Alla Alla Prossima Volta Quindi Rimanete Collegati Ci vediamo La prossima Ciao a tutti Sì Ciao a tutti